René Guénon, il re del mondo. Capitolo I. Nozioni sull'Agarta in Occidente. L'opera postuma di Saint-Yves d'Alvédré, intitolata La Mission de l'Ind, che fu pubblicata nel 1910, contiene la descrizione di un centro iniziatico misterioso designato sotto il nome di Agarta. Molti tra i lettori di quel libro debbono aver supposto, d'altronde, che non si trattava che di un racconto puramente immaginario, di una specie di finzione senza alcun fondamento di realtà. Difatti, se si vuol prendere tutto alla lettera, si trovano in cotesto libro delle inverosimiglianze che potrebbero giustificare un tale apprezzamento, almeno per chi se ne sta alle apparenze esteriori. E, senza dubbio, Saint-Yves aveva avuto delle buone ragioni per non dare egli stesso alla luce quest'opera, scritta da molto tempo, e che non era in verità completamente approntata. Fino ad allora, d'altra parte, non era stata fatta in Europa menzione della Garta e del suo capo, il Brahmatma, che da uno scrittore di molto scarsa serietà, Louis Jacoglio, di cui è impossibile invocare l'autorità. Per conto nostro, pensiamo che questi aveva realmente inteso parlare di queste cose durante il suo soggiorno nell'India, ma le ha rimaneggiate, come tutto il resto, alla sua maniera eminentemente fantasiosa. Ma, nel 1924, sopravvenne un fatto nuovo e dalquanto inatteso. Il libro intitolato Bestie, Uomini e Dei, in cui Ferdinando Ossendoschi racconta le peripezie del viaggio movimentato che fece nel 1920 e 21 attraverso l'Asia centrale, racchiude specialmente nella sua ultima parte dei racconti quasi identici a quelli di Saint-Yves. Ed il rumore che è stato fatto intorno a questo libro offre, crediamo, un'occasione favorevole per rompere finalmente il silenzio sopra questa questione della garta. Naturalmente, degli spiriti scettici o malevoli non hanno mancato di accusare Ossendoschi di aver puramente e semplicemente plagiato Saint-Yves e di rilevare, a sostegno di questa allegazione, tutti i passi concordanti delle due opere. Ve ne è effettivamente un discreto numero che presentano, sin nei particolari, una rassomiglianza assai stupefacente. Vi è innanzitutto quel che poteva sembrare nello stesso Saint-Yves la cosa più inverosimile. Vogliamo dire l'affermazione dell'esistenza di un mondo sotterraneo che estende dappertutto le sue ramificazioni, sotto i continenti ed anche sotto gli oceani, e per il cui tramite vengono stabilite delle comunicazioni invisibili tra tutte le regioni della Terra. Ossendoschi, del resto, non si addossa a questa affermazione. Dichiara anzi che non sa cosa pensarne, ma l'attribuisce a vari personaggi che ha incontrato nel corso del suo viaggio. Vi è pure, sopra dei punti più particolari, il passaggio dove il re del mondo è rappresentato dinanzi alla tomba del suo predecessore, quello dove si tratta dell'origine degli zingari, che avrebbero un tempo vissuto nella garta, e ben altri ancora. Saint-Yves dice che ci sono momenti durante la celebrazione sotterranea dei misteri cosmici in cui i viaggiatori che si trovano nel deserto si fermano e gli stessi animali rimangono silenziosi. Ossendoschi assicura di avere egli stesso assistito personalmente ad uno di questi momenti di raccoglimento generale. Vi è soprattutto come strana coincidenza la storia di un'isola, oggi scomparsa, dove vivevano degli uomini e degli animali straordinari. Saint-Yves cita in proposito il riassunto del periplo di Iambulo, di Diodoro Siculo, mentre Ossendoschi parla del viaggio di un antico buddista del Nepal, e, ciò nonostante, le loro descrizioni non differiscono quasi affatto. Se veramente esistono due versioni di questa storia provenienti da fonti così lontane l'una dall'altra, potrebbe essere interessante il rintracciarle ed il confrontarle accuratamente. Abbiamo tenuto a segnalare tutti questi avvicinamenti, ma tendiamo anche a dire che non ci convincono affatto della realtà del plagio. La nostra intenzione, d'altronde, non è di entrare qui in una discussione che, in fondo, non ci interessa che mediocremente. Indipendentemente dalle testimonianze che Ossendoschi ci ha indicato di se stesso, sappiamo, per via di tutt'altre fonti, che i racconti del genere di quelli di cui si tratta sono cosa corrente in Mongolia ed in tutta l'Asia centrale. Ed aggiungeremo subito che esiste qualche cosa di simile nelle tradizioni di quasi tutti i popoli. Da un altro lato, se Ossendoschi avesse copiato in parte la mission dell'Ind, non vediamo troppo per quale ragione avrebbe omesso certi passaggi ad effetto, né perché avrebbe cambiato la forma di certe parole, scrivendo per esempio Agarti invece di Agarta, cosa che al contrario si spiega benissimo se egli ha avuto da fonte mongola le informazioni che sentiva aveva ottenute da fonte hindù, poiché sappiamo che questi fu in relazione con due hindù almeno. Ne comprendiamo meglio perché avrebbe impiegato, per designare il capo della gerarchia iniziatica, il titolo di re del mondo che non figura in nessuna parte in Saint-Eve. Anche se si dovesse ammettere che Ossendoschi ha preso certe cose da Saint-Eve, resterebbe per sempre il fatto che egli ne dice talora altre che non hanno il loro equivalente nella mission dell'Ind, e che sono tra quelle che egli non ha sicuramente potuto inventare di sana pianta, tanto più che, ben più preoccupato di politica che di idee e dottrine, ed ignorando completamente quanto tocca l'esoterismo, è stato manifestamente incapace di afferrarne egli stesso l'esatta portata. Tale, per esempio, è la storia di una pietra nera inviata un tempo dal re del mondo al Dalai Lama, trasportata poi ad Urga, in Mongolia, e che disparve circa cento anni fa. Ora, in numerose tradizioni, le pietre nere rappresentano una parte importante, a cominciare da quella che era il simbolo di Cibele, sino a quella che è incassata nella Kaaba della Mecca. Ecco un altro esempio. Il Bogdokan, o Buddha vivente, che risiede ad Urga, conserva tra altre cose preziose, l'anello di Genghis Khan, su cui è inciso uno swastika, ed una lastra di rame portante il sigillo del re del mondo. Sembra che Ossendowski non abbia potuto vedere che il primo di questi due oggetti, ma gli sarebbe stato assai difficile d'immaginare l'esistenza del secondo. Non avrebbe dovuto presentarglisi più naturalmente allo spirito il parlare qui di una lastra d'oro? Queste poche osservazioni preliminari sono sufficienti per il nostro proposito, poiché intendiamo rimanere assolutamente estranei ad ogni polemica e ad ogni questione personale. Se citiamo Ossendowski ed anche Santev, è unicamente perché quel che essi hanno detto può servire da punto di partenza per delle considerazioni che non hanno nulla a che vedere con quanto si possa pensare dell'uno e dell'altro, e la cui portata sorpassa singolarmente la loro individualità, come pure la nostra che in questo campo non deve contare maggiormente. Noi non vogliamo, a proposito delle loro opere, abbandonarci ad una critica dei testi più o meno vana, ma si bene apportare indicazioni che finora non sono mai state date in nessun luogo, almeno per quanto sappiamo, e che sono suscettibili di aiutare in una certa misura a chiarire quello che Ossendowski chiama il mistero dei misteri. Capitolo 2. Regalità e pontificato. Il titolo di re del mondo, preso nella sua accezione più elevata, più completa e nel medesimo tempo più rigorosa, si applica propriamente a Manu, il legislatore primordiale ed universale il cui nome si trova sotto varie forme presso un gran numero di popoli antichi. Rammentiamo a questo proposito il Mina o Menes degli Egizi, il Menu dei Celti e il Minos dei Greci. Questo nome, d'altronde, non designa affatto un personaggio storico o più o meno leggendario. Quello che in realtà designa è un principio, l'intelligenza cosmica che riflette la luce spirituale pura e formula la legge, dharma, propria alle condizioni del nostro mondo o del nostro ciclo di esistenza. E nel medesimo tempo, esso è l'archetipo dell'uomo considerato specialmente in quanto essere pensante. In sanscrito Manava. D'altra parte, quello che qui importa essenzialmente osservare è che questo principio può essere manifestato per mezzo di un centro spirituale stabilito nel mondo terrestre, per mezzo di un'organizzazione incaricata di conservare integralmente il deposito della tradizione sacra, di origine non umana, per mezzo di cui la saggezza primordiale si comunica attraverso l'età a coloro che sono capaci di riceverla. Il capo di una tale organizzazione, rappresentando in certo modo lo stesso umano, potrà portarne legittimamente il titolo e gli attributi, e, per il grado di conoscenza che deve aver raggiunto per poter esercitare la sua funzione, egli si identifica altresì realmente con il principio di cui è come l'espressione umana, principio dinanzi al quale la sua individualità scompare. Questo è bene il caso della Garta, se questo centro ha raccolto come l'indica Saint-Yves l'eredità dell'antica dinastia solare, Surya Vansha, che risiedeva un tempo a Ayodhya e che faceva risalire la sua origine a Vaivasuata, il manu del ciclo attuale. Pertanto, come abbiamo già detto, Saint-Yves non considera il capo supremo della Garta come il re del mondo. Egli lo presenta come sovrano pontefice, ed inoltre lo colloca alla testa di una chiesa brahamanica, designazione che procede da una concezione un po' troppo occidentalizzata. A parte quest'ultima riserva, quello che egli dice completa, a questo proposito quel che Ossendoschi dice dal suo canto. Sembra che ognuno di essi non abbia veduto che l'aspetto che rispondeva più direttamente alle sue tendenze e alle sue preoccupazioni dominanti, perché qui si tratta in verità di un doppio potere, sacerdotale e regale ad un tempo. Il carattere pontificale, nel senso più vero di questa parola, appartiene di fatti realmente e per eccellenza al capo della gerarchia iniziatica, e ciò richiede una spiegazione. Letteralmente, il pontifex è un costruttore di ponti, e questo titolo romano è, per la sua origine, in qualche maniera un titolo massonico, ma, simbolicamente, è colui che compie la funzione di mediatore, stabilendo la comunicazione tra questo mondo ed i mondi superiori. A questo titolo l'arcobaleno, il ponte celeste, è un simbolo naturale del pontificato, e tutte le tradizioni gli danno significati perfettamente concordanti. Così, presso gli ebrei, era il pegno dell'alleanza di Dio con il suo popolo. In Cina è il segno dell'unione del cielo e della terra. In Grecia rappresenta Iris, la messaggera degli dèi. Un po' dovunque, presso gli scandinavi come presso i persiani e gli arabi, in Africa centrale e si impresso certi popoli dell'America del Nord, è il ponte che collega il mondo sensibile al soprassensibile. D'altra parte, l'unione dei due poteri, sacerdotale e regale, era rappresentata presso i latini da un certo aspetto del simbolismo di Janus, simbolismo estremamente complesso e da significati multipli. Le chiavi d'oro e d'argento raffiguravano sotto lo stesso rapporto le due iniziali corrispondenti. Si tratta, per usare la terminologia hindù, della via dei brahmani e di quella degli kshatriya, ma, al vertice della gerarchia, ci si trova nel principio comune da cui gli uni e gli altri traggono le loro rispettive attribuzioni, al di là, dunque, della loro distinzione, poiché Ivi è la fonte di ogni autorità legittima, qualunque sia il dominio in cui si eserciti. E gli iniziati della garta sono ativarna, vale a dire, al di là delle caste. Nel Medioevo esisteva un'espressione nella quale i due aspetti complementari dell'autorità si trovavano riuniti in una maniera assai degna di nota. Si parlava spesso in quel tempo di una contrada misteriosa a cui davasi il nome di Regno del prete Gianni. Era il tempo in cui quella che si potrebbe designare come la copertura esteriore del centro in questione era formata, per buona parte, dai Nestoriani, o quello che a torto o a ragione si è convenuto di chiamare in tal modo, e dei Sabei, e, precisamente, questi ultimi davano a se stessi il nome di Mendayedi Yahya, vale a dire, discepoli di Giovanni. A questo proposito possiamo subito fare un'altra osservazione. È perlomeno curioso che molti gruppi orientali a carattere molto chiuso, dagli Ismailiti o discepoli del Vecchio della Montagna e i Drusi del Libano, abbiano uniformemente assunto, tale quale come gli ordini di cavalleria occidentali, il titolo di Guardiani della Terra Santa. Quel che segue farà senza dubbio comprendere meglio il possibile significato di questo fatto. Sembra che Sant'Yves abbia trovato un'espressione assai appropriata, ancora di più forse che egli stesso non pensasse quando parla dei Templari della Garta. Perché non ci si stupisca dell'espressione copertura esteriore che abbiamo adoperato, aggiungeremo che bisogna ben porre attenzione a questo fatto che l'iniziazione cavalleresca era essenzialmente un'iniziazione di Kshatriyas, il che spiega tra le altre cose la parte preponderante che vi rappresenta il simbolismo dell'amore. Qualunque sia il valore di queste ultime considerazioni, in Occidente l'idea di un personaggio che ad un tempo è prete e re non è molto corrente, sebbene si trovi all'origine stessa del cristianesimo, rappresentata in maniera chiarissima dai re magi. Anche nel Medioevo, almeno secondo le apparenze esteriori, il potere supremo era diviso tra il papato e l'impero. Ma tale separazione può essere considerata come il contrassegno di un'organizzazione incompleta dall'alto, se è lecito così esprimersi, poiché non vi si vede apparire il principio comune da cui procedono e dipendono regolarmente i due poteri. Il potere veramente supremo doveva quindi trovarsi altrove. In Oriente, al contrario, il mantenimento di una tale separazione al vertice stesso della gerarchia è assai eccezionale, e non è che in certe concezioni buddiste che ci si imbatte in qualche cosa di simile. Vogliamo alludere all'incompatibilità affermata tra la funzione di Buddha e quella di Chakravarti, o monarca universale, quando è detto che Shakyamuni dovette a un certo momento scegliere tra l'una e l'altra. Conviene aggiungere che il termine Chakravarti, che non ha nulla di specialmente buddico, si applica molto bene, secondo i dati della tradizione hindù alla funzione del manu o dei suoi rappresentanti. È letteralmente colui che fa girare la ruota, vale a dire colui che è collocato nel centro di tutte le cose, ne dirige il movimento senza egli stesso parteciparvi, o che ne è, secondo l'espressione di Aristotile, il motore immobile. Richiamiamo in modo specialissimo l'attenzione su questo. Il centro di cui si tratta è il punto fisso che tutte le tradizioni sono concordi nel designare simbolicamente come il polo, poiché è intorno ad esso che si effettua la rotazione del mondo, rappresentato generalmente dalla ruota, presso i celti, tanto quanto presso i caldei e gli hindù. Tale è il vero significato dell'osuastica. Questo segno che si trova diffuso dappertutto, dall'estremo oriente all'estremo occidente, e che, essenzialmente, è il segno del polo. È senza dubbio la prima volta nell'Europa moderna che se ne fa qui conoscere il senso reale? Gli scienziati contemporanei, di fatti, hanno cercato vanamente di spiegare questo simbolo con le teorie più immaginose. La massima parte di essi, ossessionati da una specie di idea fissa, ha voluto vedere, qui come quasi dovunque altrove, un segno esclusivamente solare, mentre, se talora lo è divenuto, ciò non ha potuto essere che accidentalmente ed in modo deviato. Altri si sono avvicinati maggiormente alla verità considerando l'osuastica come il simbolo del movimento. Ma questa interpretazione, senza essere falsa, è grandemente insufficiente, poiché non si tratta di un movimento qualunque, ma di un movimento di rotazione che si compie intorno ad un centro o ad un asse immutabile. Ed è il punto fisso, che, lo ripetiamo, è l'elemento essenziale a cui si riferisce direttamente il simbolo in questione. Da quanto ora abbiamo detto, si può già comprendere che il re del mondo deve avere una funzione essenzialmente ordinatrice e regolatrice. E si osserverà che non è senza una ragione che quest'ultima parola ha la medesima radice di rex e di reggere. Funzione che può riassumersi in una parola come equilibrio o armonia, il che è reso in sanscrito precisamente dal termine dharma. Noi con ciò intendiamo il riflesso, nel mondo manifestato, dell'immutabilità del principio supremo. Si può comprendere anche, mediante le medesime considerazioni, perché il re del mondo ha per attributi fondamentali la giustizia e la pace, che non sono che le forme più specialmente rivestite da questo equilibrio e da questa armonia nel mondo dell'uomo, ma anava loca. È anche questo un punto della più grande importanza, ed oltre alla sua portata generale lo segnaliamo a coloro che si abbandonano a certe paure chimeriche, di cui è contenuta come una eco nelle ultime linee del libro stesso di Ossendoski. Capitolo III. La Shekina e Metatron Alcuni spiriti timorosi, e la cui comprensione è stranamente limitata da idee preconcette, sono stati spaventati dalla designazione stessa di re del mondo, che essi hanno immediatamente riavvicinato a quella di Princep Suius Mundi, di cui è questione nell'Evangelo. Naturalmente, tale assimilazione è completamente erronea e sprovvista di fondamento. Per eliminarla, potremmo limitarci a fare semplicemente osservare che questo titolo di re del mondo, in ebraico ed in arabo, è applicato correntemente a Dio stesso. Non pertanto, siccome ciò può offrire l'occasione di alcune osservazioni interessanti, considereremo a questo proposito le teorie della Kabbalah ebraica, concernenti gli intermediari celesti, teorie ed altronde, che hanno un preciso rapporto diretto con il soggetto principale di questo nostro studio. Gli intermediari celesti di cui si tratta sono la Shekina e Metatron, e diremo per prima cosa che, nel senso più generale, la Shekina è la presenza reale della divinità. Bisogna notare che i passi della scrittura dove ne è fatta menzione tutta speciale sono soprattutto quelli in cui si tratta della istituzione di un centro spirituale. La costruzione del tabernacolo, l'edificazione del Tempio di Salomone e di Zorobabele. Un tal centro, costituito in condizioni regolarmente definite, doveva essere infatti il luogo della manifestazione divina, sempre rappresentata come luce. Ed è curioso di osservare che l'espressione di luogo illuminatissimo e regolarissimo che la massoneria ha conservato sembra bene essere un ricordo dell'antica scienza sacerdotale che presiedeva la costruzione dei templi, e che del resto non era particolare agli ebrei. Torneremo in seguito su questo. Non occorre qui che entriamo nello sviluppo della teoria delle influenze spirituali. Preferiamo questa espressione alla parola Benedizioni, per tradurre l'ebraico Berako. Tanto più che questo è il senso che ha conservato molto nettamente in arabo la parola Barakah. Ma, anche limitandosi a considerare le cose da questo solo punto di vista, sarebbe possibile spiegarsi la parola di Elia Levita, che riporta il Vujod nella sua opera Sopra la Kabbal Juiv. I maestri della Kabbala hanno a questo soggetto dei grandi segreti. La Shekina si presenta sotto aspetti multipli, tra i quali ve ne sono due principali, l'uno interno e l'altro esterno. Ora, d'altra parte, viene la tradizione cristiana una frase che designa con la massima possibile chiarezza questi aspetti. Gloria in excelsis Deo, et in terra, paxo minibus buone voluntatis. Le parole gloria e pax si riferiscono rispettivamente all'aspetto interno, per rapporto al principio, ed all'aspetto esterno, per rapporto al mondo manifestato. E se queste due parole le si considerano in questo modo, si può comprendere immediatamente perché vengano pronunciate dagli angeli, Malachim, per annunciare la nascita del Dio con noi, o in noi, Emmanuel. Si potrebbe anche, per il primo aspetto, ricordare la teoria dei teologi sopra la luce di gloria, nella quale e per la quale, si opera la visione beatifica, in excelsis. E quanto al secondo, ritroviamo qui la pace cui facevamo allusione aurora, e che, nel suo senso esoterico, è indicata dappertutto come uno degli attributi fondamentali dei centri spirituali stabiliti in questo mondo, in terra. D'altronde, il termine arabo sakhinah, che evidentemente è identico all'ebraico shekina, si traduce con grande pace, il che è l'esatto equivalente della pax profunda dei Rosa Croce, e, per questa via, si potrebbe senza dubbio spiegare che cosa questi intendevano significare con tempio dello Spirito Santo, come si potrebbero interpretare in modo preciso i numerosi testi evangelici in cui si parla della pace, tanto più che la tradizione segreta concernente la shekina avrebbe qualche rapporto con la luce del Messia. E dunque senza intenzione che il voyo, dando quest'ultima indicazione, dice che si tratta della tradizione riservata a coloro che perseguono il cammino che finisce al pardes, vale a dire, come vedremo più innanzi, al centro spirituale supremo? Questo porta anche ad un'altra osservazione connessa. Il voyo parla in seguito di un mistero relativo al Giubileo, il che si riattacca in un senso all'idea di pace, e a questo proposito egli cita questo testo dello Zohar. Il fiume che esce dall'Eden porta il nome di Jobel, come quello di Geremia. Esso stenderà le sue radici verso il fiume, di dove risulta che l'idea centrale del Giubileo è il riportare tutte le cose al loro stato primitivo. È chiaro che si tratta di quel ritorno allo stato primordiale, considerato da tutte le tradizioni, e su cui abbiamo avuto l'occasione di insistere un poco nel nostro studio sull'esoterismo di Dante, e, quando si aggiunga che il ritorno di tutte le cose al loro stato primigenio segnerà l'era messianica, coloro che hanno letto questo studio potranno ricordarsi di quello che vi dicevamo sopra i rapporti del paradiso terrestre e della Gerusalemme celeste. D'altronde, quello di cui si tratta in tutto questo è sempre in fasi diverse della manifestazione ciclica, il pardes, il centro di questo mondo che il simbolismo tradizionale di tutti i popoli paragona al cuore, centro dell'essere e residenza divina. Brahma pura nella dottrina hindù. Come il tabernacolo che ne è l'immagine, e che per questa ragione è chiamato in ebraico Mishkan, o abitacolo di Dio, parola che ha la stessa radice della parola Shekina. Da un altro punto di vista, la Shekina è la sintesi delle Sefirot. Ora, nell'albero sefirotico, la colonna di destra è il lato della misericordia, e la colonna di sinistra è il lato del rigore. Dobbiamo dunque ritrovare questi due aspetti anche nella Shekina, e possiamo osservare immediatamente, per collegare questo a quanto precede, che, sotto un certo aspetto almeno, il rigore si identifica con la giustizia, e la misericordia con la pace. Se l'uomo pecca e si allontana dalla Shekina, cade sotto il potere delle potenze, Sarim, che dipendono dal rigore, il che ricorda immediatamente il simbolo ben conosciuto della mano di giustizia. Ma, al contrario, se l'uomo si approssima alla Shekina, egli si libera. E la Shekina è la mano destra di Dio. Vale a dire che la mano di giustizia diviene allora la mano benedicente. Sono questi i misteri della magione di giustizia, Beif Din, il che è ancora un'altra designazione del centro spirituale supremo, ed è appena necessario di fare osservare che i due lati che abbiamo considerato sono quelli in cui si ripartiscono gli eletti e i dannati nelle rappresentazioni cristiane dell'ultimo giudizio. Si potrebbe ugualmente stabilire un avvicinamento con le due vie che i pitagorici raffiguravano con la lettera Y, e che, sotto una forma exoterica, erano rappresentate dal mito di Ercole tra la virtù e il vizio. Con le due porte celeste ed infernale, che presso i latini erano associate al simbolismo di Janus. Con le due fasi cicliche ascendente e discendente, che presso gli hindu si riattaccano similmente al simbolismo di Ganesha. Infine, è facile capire per questa via che cosa vogliono dire veramente delle espressioni come quelle di intenzione dritta e di buona volontà. Paxo minibus buone voluntatis. E coloro che hanno qualche conoscenza dei vari simboli ai quali abbiano ora fatto allusione, vedranno che non è senza ragione che la festa di Natale coincide con l'epoca del solstizio d'inverno. Quando si ha cura di lasciare da parte tutte le interpretazioni esteriori, filosofiche e morali alle quali esse hanno dato luogo dagli stoici sino a Kant. La Kabbalah dà alla Shekhin a un paraedro che porta dei nomi identici ai suoi, che possiede per conseguenza i medesimi caratteri, e che ha naturalmente altrettanti aspetti diversi quanti la stessa Shekhin a. Il suo nome è Metatron, e questo nome è numericamente equivalente a quello di Shaddai, l'Onnipotente, che si dice sia il nome del dio di Abramo. L'etimologia della parola Metatron è molto incerta. Tra le varie ipotesi che sono state emesse a questo proposito, una delle più interessanti è quella che fa derivare dal caldaico mitra, che significa pioggia, e che ha anche per la sua radice un certo rapporto con la luce. Se la cosa sta così, d'altronde, non bisognerebbe credere che la similitudine con il mitra hindu e zoroastriano costituisca una ragione sufficiente per ammettere un imprestito del giudaismo a delle dottrine straniere, perché non è in questo modo tutto esteriore che conviene considerare i rapporti che esistono tra le varie tradizioni. E diremmo altrettanto, per quel che concerne la parte attribuita alla pioggia, in quasi tutte le tradizioni, in quanto simbolo della discesa delle influenze spirituali dal cielo sulla terra. A questo proposito, segnaliamo che la dottrina ebraica parla di una rugiada di luce che emana dall'albero della vita, e per mezzo della quale deve effettuarsi la resurrezione dei morti, come pure di una effusione di rugiada che rappresenta l'influenza celeste che si comunica a tutti i mondi, il che ricorda singolarmente il simbolismo alchemico e rosacruciano. Il termine di Metatron comporta tutte le accezioni di guardiano, signore, inviato, mediatore. Esso è l'autore delle teofanie del mondo sensibile. Esso è l'angelo della faccia, ed è anche il principe del mondo, Sar Aulam. E quest'ultima designazione mostra che non ci siamo appunto allontanati dal nostro soggetto. Per impiegare il simbolismo tradizionale che abbiamo già spiegato precedentemente, diremmo volentieri che, come il capo della gerarchia iniziatica e il polo terrestre, Metatron è il polo celeste, e questo ha il suo riflesso in quello con il quale è in relazione diretta seguendo l'asse del mondo. Il suo nome è Mikael, il gran prete che è holocausto ed oblazione dinanzi a Dio. E tutto quello che gli israeliti fanno sulla Terra viene compiuto in conformità dei tipi di quello che avviene nel mondo celeste. Il gran pontefice, qui in basso, simboleggia Mikael, principe della clemenza. In tutti i passi dove la scrittura parla dell'apparizione di Mikael, si tratta della gloria della Shekina. Quello che qui è detto degli israeliti può essere detto parimenti di tutti i popoli che possiedano una tradizione veramente ortodossa. A più forte ragione va detto dei rappresentanti della tradizione primordiale da cui tutte le altre derivano, e da cui esse sono tutte subordinate. E questo è in rapporto con il simbolismo della Terra Santa, immagine del mondo celeste a cui abbiamo già fatto allusione. D'altra parte, secondo quanto abbiamo detto più sopra, Metatron non ha solo l'aspetto della clemenza, ma ha anche quello della giustizia. Non è soltanto il gran prete, Kohen Hagadol, ma anche il gran principe, Sar Hagadol. È il capo delle milizie celesti, vale a dire che in lui si trova il principio del potere regale come pure del potere sacerdotale o pontificale a cui corrisponde propriamente la funzione del mediatore. Bisogna ad altronde osservare che Melek, re, e Maleach, angelo o inviato, non sono in realtà che due forme di una stessa parola. Di più Malachi, mio inviato, vale a dire l'inviato di Dio o l'angelo nel quale è Dio, Maleach ha Elohim, è l'anagramma di Mikael. Conviene aggiungere che, se Mikael si identifica con Metatron, come ora abbiamo veduto, non ne rappresenta che un aspetto. Accanto alla faccia luminosa vi è una faccia oscura, e questa è rappresentata da Samael, che ugualmente è chiamato Sar Haolam. Noi qui torniamo al punto di partenza di queste considerazioni. Infatti, è quest'ultimo aspetto, è soltanto questo, che in un senso inferiore è il genio di questo mondo. Il principe Suius Mundi di cui parla il Vangelo, ed i suoi rapporti con il Metatron di cui è come l'ombra, giustificano l'impiego di una stessa designazione di un doppio senso, nel medesimo tempo, che fanno comprendere il perché il numero apocalittico 666, il numero della bestia, è anche un numero solare. Del resto, secondo Sant'Ippolito, il Messia e l'Anticristo hanno tutte e due per emblema il leone, che è, parimenti, un simbolo solare, e la medesima osservazione potrebbe essere fatta per il serpente e per molti altri simboli. Dal punto di vista cabalistico, qui si tratta ancora delle due facce opposte di Metatron. Non dobbiamo diffondere sopra le teorie che si potrebbero formulare in una maniera generale, sopra questo duplice senso dei simboli, ma diremo solamente che la confusione tra l'aspetto luminoso e l'aspetto tenebroso costituisce propriamente il satanismo. Ed è precisamente questa la confusione commessa, involontariamente senza dubbio e per semplice ignoranza, il che scusa, ma non giustifica, da coloro che credono scoprire un significato infernale nella designazione di re del mondo. Capitolo quarto. Le tre funzioni supreme. Secondo Sant'Ippolito, il capo supremo della garta porta il titolo di Brahatma. Sarebbe più corretto scrivere Brahatma, sostegno delle anime nello spirito di Dio. I suoi due assessori sono il Mahatma, che rappresenta l'anima universale, ed il Mahanga, simbolo di tutta l'organizzazione materiale del cosmos. È la divisione gerarchica che le dottrine occidentali rappresentano con il ternario spirito, anima e corpo, e che qui è applicata secondo l'analogia costitutiva del macrocosmo e del microcosmo. Importa notare che questi termini in sanscrito designano propriamente dei principi, e che essi non possono venire applicati a degli esseri umani che in quanto questi rappresentano questi stessi principi, di modo che, anche in questo caso, sono legati essenzialmente a delle funzioni e non a delle individualità. Secondo Sendowski, il Mahatma conosce gli avvenimenti dell'avvenire, ed il Mahanga dirige le cause di questi avvenimenti. Quanto al Brahatma, egli può parlare a Dio faccia a faccia, ed è facile comprendere che cosa ciò vuol dire se si ricorda che egli occupa il punto centrale dove si stabilisce la comunicazione diretta del mondo terrestre con gli stati superiori ed attraverso questi con il principio supremo. D'altronde, l'espressione di «re del mondo», se si volesse intenderla in un senso ristretto ed unicamente per rapporto al mondo terrestre, sarebbe assai inadeguata. Sarebbe più esatto, sotto certi aspetti, di applicare al Brahatma quello di maestro dei tre mondi, perché in ogni gerarchia effettiva, chi possiede il grado superiore, possiede nello stesso tempo ed in virtù di esso tutti i grandi subordinati. E questi tre mondi, che costituiscono il tribuvana della tradizione hindù, sono, come lo spiegheremo tra poco, i domini che corrispondono alle tre funzioni che abbiamo ora enumerato. Quando egli esce dal Tempio, dice Ossendoski, il re del mondo irradia una luce divina. La Bibbia ebraica dice esattamente la stessa cosa di Mosè quando egli discendeva dal Sinai, ed è da osservare, a proposito di questo ravvicinamento, che la tradizione islamica vede in Mosè quegli che fu il polo della sua epoca. Non sarebbe per questa ragione d'altronde che la Kabbalah dice che egli fu istruito da Metatron stesso? Ancora bisognerebbe qui distinguere tra il centro spirituale principale del nostro mondo e di centri secondari che possono essergli subordinati e che lo rappresentano solamente per rapporto a delle tradizioni particolari, adatte più specialmente a dei popoli determinati. Senza dilungarci su questo punto faremo osservare che la funzione di legislatore, in arabo rasul, che è quella di Mosè, suppone necessariamente una delegazione del potere che designa il nome di Manu, e d'altra parte uno dei significati contenuti in questo nome, il Manu, indica precisamente il riflesso della luce divina. Il re del mondo, disse un lama ad Ossendoski, è in rapporto con i pensieri di tutti coloro che dirigono il destino dell'umanità. Egli conosce le loro intenzioni e le loro idee. Se esse piacciono a Dio, il re del mondo le favorirà con il suo aiuto invisibile, ma se spiacciono a Dio, il re ne provocherà lo scacco. Questo potere è dato ad Agarti dalla scienza misteriosa di Om, parola con la quale cominciano tutte le nostre preghiere. Immediatamente dopo viene questa frase che per tutti quelli che hanno soltanto una vaga idea del significato del monosillabo sacro Om deve essere una causa di stupore. Om è il nome di un antico santo, il primo dei Goros. Ossendoski scrive Goro per Guru, che visse 300.000 anni fa. Questa frase, di fatti, è assolutamente inintelligibile se non si pensa a questo. L'epoca di cui si tratta e che d'altronde non ci sembra indicata che in un modo assai vago è molto anteriore all'epoca del Manu attuale. D'altra parte, l'Adi Manu, o primo Manu del nostro Kalpa, Vai Vasvata, secondo il settimo, è chiamato Suayambuva, cioè derivato da Suayambu, colui che sussiste per sé stesso, o di Logos Eterno. Ora il Logos, o colui che lo rappresenta direttamente, può in verità essere designato come il primo dei Gurus, o maestri spirituali, ed effettivamente, Om è in realtà un nome del Logos. D'altra parte, la parola Om dà immediatamente la chiave della ripartizione gerarchica delle funzioni tra il Brahatma ed i suoi due assessori quale l'abbiamo già indicata. Difatti, secondo la tradizione hindù, i tre elementi di questo monosillabo sacro simboleggiano rispettivamente i tre mondi ai quali facevamo allusione poco prima. I tre termini del Tribuvana. La terra, Bu, l'atmosfera, Buvas, il cielo, Suar. Vale a dire, in altri termini, il mondo della manifestazione corporea, il mondo della manifestazione sottile o psichica, il mondo del principio non manifestato. Sono questi, andando dal basso verso l'alto, i domini propri del Mahanga, del Mahatma e del Brahatma, come si può vedere facilmente riportandosi all'interpretazione dei loro titoli che è stata data più sopra, e di rapporti di subordinazione che esistono tra questi diversi domini, giustificano per il Brahatma l'appellativo di maestro dei tre mondi che abbiamo impiegato precedentemente. Questi è il signore di tutte le cose, l'onnisciente, che vede immediatamente tutti gli effetti nella loro causa. L'ordinatore interno, che risiede nel centro del mondo e lo regge dal di dentro, dirigendo nel movimento senza parteciparvi. La sorgente, di ogni potere legittimo, l'origine è la fine di tutti gli esseri, della manifestazione ciclica di cui rappresenta la legge. Per servirci ancora di un altro simbolismo, non meno rigorosamente esatto, diremo che il Mahanga rappresenta la base del triangolo iniziatico, ed il Brahatma il suo vertice. Tra i due, il Mahatma incarna in un certo modo un principio mediatore, la vitalità cosmica, l'anima mundi degli ermetisti, la cui azione si spiega nello spazio intermediario, e tutto questo è chiarissimamente raffigurato dai corrispondenti caratteri dell'alfabeto sacro che Saint-Yves chiama Vatan, ed osendoschi Vatanan, o ciò che fa lo stesso dalle forme geometriche, linea retta, spirale e punto, alle quali si riconducono essenzialmente i tre matras, o elementi costitutivi del monosillabo OM. Spieghiamoci ancora più nettamente. Al Brahatma appartiene la pienezza dei due poteri sacerdotale e regale, considerata principalmente ed in qualche modo allo stato indifferenziato. Distinguendosi poi questi due poteri per manifestarsi, il Mahatma rappresenta più specialmente il potere sacerdotale, ed il Mahanga il potere regale. Questa distinzione corrisponde a quella dei Brahmani e degli Kshatriyas, ma d'altronde, essendo al di là delle caste, il Mahatma ed il Mahanga, come pure il Brahatma, hanno in se stessi un carattere sacerdotale e regale ad un tempo. A questo proposito preciseremo anche un punto che non pare sia mai stato spiegato in modo soddisfacente e che ciò nonostante è molto importante. Facevamo allusione precedentemente ai remagi dell'Evangelo come riunenti in sé i due poteri. Diremo ora che questi personaggi misteriosi, in realtà, non rappresentano altro che i tre capi della garta. Il Mahanga offre al Cristo l'oro e lo saluta come re. Il Mahatma gli offre l'incenso e lo saluta come prete. Infine, il Brahatma gli offre la mirra, il balsamo di incorruttibilità, immagine dell'ambrità, e lo saluta come profeta o maestro spirituale per eccellenza. L'omaggio così reso al Cristo nascente nei tre mondi che sono i loro rispettivi domini, dai rappresentanti autentici della tradizione primordiale e, nel medesimo tempo, lo si noti bene, il pegno della perfetta ortodossia del cristianesimo rispetto ad essa. Naturalmente, Ossendoschi non aveva alcuna possibilità di mettersi in quest'ordine di considerazioni, ma se avesse compreso certe cose più profondamente che non abbia fatto, avrebbe perlomeno potuto osservare la rigorosa analogia che esiste tra il ternario supremo della garta e quello dell'amaismo come indica. Il Dalai Lama, che realizza la santità o la pura spiritualità di Buddha, il Tashi Lama, che realizza la sua scienza, non magica come pare che egli creda, ma piuttosto teurgica, ed il Bogdokan, che rappresenta la sua forza materiale e guerriera. È esattamente la medesima ripartizione secondo i tre mondi. Egli avrebbe anche potuto fare questa osservazione tanto più facilmente, in quanto che gli era stato indicato che la capitale di Agarti ricorda Lhasa, dove il palazzo del Dalai Lama, il Potala, si trova in cima ad una montagna ricoperta di templi e di monasteri. Questo modo di esprimere le cose è d'altronde erroneo, in quanto rovescia i rapporti, perché, in realtà, è dell'immagine che si può dire che essa ricordi il suo prototipo, e non il contrario. Ora, il centro dell'amaismo non può essere che un'immagine dell'effettivo centro del mondo. Ma tutti i centri di questo genere presentano, quanto ai luoghi dove sono stabiliti, certe particolarità topografiche comuni, poiché queste particolarità, ben lungi da essere indifferenti, hanno un valore simbolico incontestabile, e inoltre debbono essere in relazione con le leggi secondo le quali agiscono le influenze spirituali. Si tratta di una questione appartenente propriamente a quella scienza tradizionale cui si può dare il nome di geografia sacra. Vi è anche un'altra concordanza, non meno notevole. Saint-Yves, descrivendo i vari gradi o circoli della gerarchia iniziatica, che sono in relazione con certi numeri simbolici, specialmente riferentesi alle divisioni del tempo, termina dicendo che il circolo più elevato e più prossimo al centro misterioso si compone di dodici membri che rappresentano l'iniziazione suprema e corrispondono, tra le altre cose, alla zona zodiacale. Ora, questa costituzione è riprodotta da quel che si chiama il consiglio circolare del Dalai Lama, formato dai dodici grandi Namshans, o Nomekans, e si ritrova anche d'altronde sino in certe tradizioni occidentali, specialmente quelle che concernono i cavalieri della tavola rotonda. Aggiungeremo ancora che i dodici membri del circolo interiore della Garta, dal punto di vista dell'ordine cosmico, non rappresentano soltanto i dodici segni dello Zodiaco, ma anche i dodici Adityas, che sono altrettante forme del Sole, in rapporto con questi medesimi segni zodiacali. E naturalmente, come Manu Vaivasuata è chiamato, figlio del Sole, il re del mondo ha anche il Sole tra i suoi emblemi. La prima conclusione che emerge da tutto questo è che esistono veramente dei legami ben stretti tra le descrizioni, le quali, in tutti i paesi, si riferiscono a dei centri spirituali più o meno nascosti, o, perlomeno, difficilmente accessibili. La sola spiegazione plausibile che se ne possa dare è che, se queste descrizioni si riferiscono a dei centri diversi, come sembra bene accadere in certi casi, questi non sono per così dire che delle emanazioni di un centro unico e supremo, nel medesimo modo che tutte le tradizioni particolari non sono, insomma, con degli adattamenti della grande tradizione primordiale? Capitolo V. Il simbolismo del Graal Facevamo allusione orora ai cavalieri della tavola rotonda. Non sarà fuor di proposito indicare qui cosa significa la cerca del Graal, che, nelle leggende di origine celtica, è presentata come la loro principale funzione. In tutte le tradizioni è fatta in tal modo allusione a qualche cosa che, a partire da una certa epoca, sarebbe andata perduta o sarebbe stata nascosta. È, per esempio, il Soma degli Hindu o il Haoma dei Persiani, la bevanda di immortalità, la quale ha precisamente un rapporto molto diretto con il Graal, poiché questo è, dicesi, il vaso sacro che contenne il sangue del Cristo, che pure è una bevanda di immortalità. Altrove il simbolismo è differente. Così, presso gli ebrei, è la pronuncia del gran nome divino che si è perduta, ma l'idea fondamentale è sempre la medesima, e vedremo più innanzi a che cosa essa corrisponda esattamente. Il Santo Graal è, dicesi, la coppa che servì alla cena, e dove di poi Giuseppe di Arimatea raccolse il sangue e l'acqua che sfuggivano dalla ferita aperta nel fianco del Cristo, dalla lancia del centurione Longino. Secondo la leggenda, questa coppa sarebbe stata trasportata in Gran Bretagna dallo stesso Giuseppe di Arimatea e da Nicodemo, e bisogna scorgere qui l'indicazione di un legame stabilito tra la tradizione celtica ed il cristianesimo. La coppa, di fatti, rappresenta una parte assai importante nella maggior parte delle tradizioni antiche, e, senza dubbio, questo era in particolare il caso dei Celti. Si deve anche notare che essa è frequentemente associata alla lancia, due simboli che sono allora in qualche modo il complemento l'uno dell'altro, ma questo ci allontanerebbe dal nostro argomento. Quel che forse mostra più nettamente il significato essenziale del Graal e, quanto è detto, della sua origine. Questa coppa sarebbe stata intagliata dagli angeli in uno smeraldo caduto dalla fronte di Lucifero al momento della sua caduta. Questo smeraldo ricorda in modo netto e significativo l'urna, la perla frontale, che nel simbolismo hindù, da cui è passata nel buddismo, tiene spesso il posto del terzo occhio di Shiva, rappresentando quello che può essere chiamato il senso dell'eternità, come lo abbiamo già spiegato altrove. Del resto è detto poi che il Graal fu confidato ad Adamo nel paradiso terrestre, ma Adamo lo perdette a sua volta al momento della sua caduta, perché non poté portarlo con sé quando fu scacciato dall'Eden, e nel significato che abbiamo indicato, la cosa diventa chiarissima. Di fatto, l'uomo, rimosso dal suo centro originale, si trovava da quel momento racchiuso nella sfera temporale. Non poteva più raggiungere il punto unico da cui tutte le cose sono contemplate sotto l'aspetto dell'eternità. In altri termini, il possesso del senso dell'eternità è legato a ciò che tutte le tradizioni chiamano, come abbiamo ricordato più sopra, lo stato primordiale, la cui restaurazione costituisce il primo stadio dell'iniziazione effettiva, essendo la condizione preliminare della conquista effettiva degli stati sovraumani. Il paradiso terrestre, d'altronde, rappresenta propriamente il centro del mondo, e quel che diremo in seguito, sul senso originale della parola paradiso, potrà farlo comprendere meglio ancora. Quanto segue può sembrare più enigmatico. Seth ottenne di rientrare nel paradiso terrestre e potè così recuperare il prezioso vaso. Ora, il nome di Seth esprime le idee di fondamento e di stabilità, e quindi indica in un certo modo la restaurazione dell'ordine primordiale distrutto dalla caduta dell'uomo. Si deve dunque comprendere che Seth e coloro che dopo di lui possedettero il Graal poterono in virtù di questo stesso possesso stabilire un centro spirituale destinato a sostituire il paradiso perduto, centro che ne era come un'immagine. Ed allora questo possesso del Graal rappresenta la conservazione integrale della tradizione primordiale in tale centro spirituale. La leggenda, d'altronde, non dice dove né da chi il Graal fu conservato fino all'epoca di Cristo, ma l'origine celtica riconosciutale deve senza dubbio lasciare intendere che i druidi vi ebbero una parte, e che essi vanno contati tra i conservatori regolari della tradizione primordiale. La perdita del Graal o di qualche d'uno dei suoi equivalenti simbolici è insomma la perdita della tradizione con tutto quel che essa comporta. A dire il vero, d'altronde, questa tradizione è piuttosto nascosta che perduta, o, perlomeno, essa non può essere perduta che per certi centri secondari, quando essi cessano di essere in relazione diretta con il centro supremo. Quanto a quest'ultimo, esso conserva sempre intatto il deposito della tradizione, e non risente i cambiamenti che sopravvengono nel mondo esteriore. È così che, secondo vari padri della Chiesa, ed in particolare Sant'Agostino, il diluvio non ha potuto raggiungere il paradiso terrestre che è l'abitazione di Enoch e la terra dei Santi, ed il cui vertice tocca la sfera lunare, vale a dire si trova al di là del dominio del cambiamento, identificato con il mondo sublunare, nel punto di comunicazione della Terra e dei Cieli. Ma, come il paradiso terrestre è divenuto inaccessibile, il centro supremo, che in fondo è la stessa cosa, può nel corso di un certo periodo essere esteriormente immanifestato. Ed allora si può dire che la tradizione è perduta per l'assieme dell'umanità, perché essa non è conservata che in certi centri rigorosamente chiusi, e la massa degli uomini non vi partecipa più in un modo cosciente ed effettivo, contrariamente a quel che accadeva nello stato originale. Questa è precisamente la condizione dell'epoca attuale, il cui inizio risale d'altronde ben oltre i limiti accessibili alla storia ordinaria e profana. Secondo i casi, la perdita della tradizione può dunque essere intesa in senso generale, oppure essere riferita all'oscuramento del centro spirituale che reggeva più o meno invisibilmente i destini di un popolo particolare o di una civilizzazione determinata. Occorre dunque, ogni volta che si trova il simbolismo che vi si riferisce, esaminare se deve essere interpretato nell'uno o nell'altro senso. Secondo quanto abbiamo detto ora, il Graal rappresenta nel medesimo tempo due cose che sono strettamente solidali l'una con l'altra. Chi possiede integralmente la tradizione primordiale, chi è pervenuto al grado di conoscenza effettiva essenzialmente implicito in questo possesso, è di fatti, perciò stesso, reintegrato nella pienezza dello stato primordiale. A queste due cose, stato primordiale e tradizione primordiale, si riferisce il duplice senso inerente alla stessa parola Graal, perché, con una di quelle assimilazioni verbali che hanno spesso nel simbolismo una funzione non trascurabile e che hanno d'altronde delle ragioni assai più profonde di quanto non si immaginerebbe a prima vista, il Graal è simultaneamente un vaso, grasale, ed un libro, gradale o graduale. Quest'ultimo aspetto designa manifestamente la tradizione, mentre l'altro concerne più direttamente lo stato stesso. Non abbiamo l'intenzione di entrare qui nei particolari della leggenda del Santo Graal, benché essi abbiano tutti anche un valore simbolico, né di seguire la storia dei cavalieri della tavola rotonda e delle loro gesta. Ricorderemo solamente che la tavola rotonda, costruita dal re Arturo, sui piani di Merlino, era destinata a ricevere il Graal quando uno dei cavalieri fosse pervenuto a conquistarlo e l'avesse apportato dalla Gran Bretagna in armorica. Anche questa tavola è un simbolo verosimilmente assai antico, uno di quelli che furono sempre associati all'idea dei centri spirituali, conservatori della tradizione. La forma circolare della tavola, d'altronde, è formalmente legata al ciclo zodiacale dalla presenza attorno ad essa di dodici personaggi principali, particolarità la quale si ritrova, come dicevamo precedentemente, nella costituzione di tutti i centri di cui ci stiamo occupando. Vi è ancora un simbolo che si collega ad un altro aspetto della leggenda del Graal che merita una speciale attenzione. È quello di Montsalva, letteralmente Monte della Salute. Il picco, situato sulle lontane rive cui nessun mortale può avvicinarsi, rappresentato come ergentesi in mezzo al mare, in una regione inaccessibile e dietro il quale si leva il sole. È simultaneamente l'isola sacra e la montagna polare, due simboli equivalenti di cui dovremmo riparlare ancora nel seguito di questo studio. È la terra d'immortalità che si identifica naturalmente con il paradiso terrestre. Per ritornare al Graal, è facile rendersi conto che il suo primo significato è in fondo il medesimo di quello che ha il vaso sacro ovunque lo si ritrova, e che ha, in particolare in Oriente, la coppa sacrificale contenente originariamente, come indicavamo più sopra, il Soma Vedico o dil Hauma Mazdeiko, vale a dire la bevanda di immortalità che conferisce o restituisce il senso dell'eternità a coloro che la ricevono con le disposizioni richieste. Non potremmo, senza uscire dal nostro oggetto, dilungarci maggiormente sul simbolismo della coppa e di ciò che essa contiene. Bisognerebbe, per svilupparlo convenientemente, consacrarvi tutto uno studio apposito, ma l'osservazione che abbiamo fatto ci conduce ad altre considerazioni che hanno la massima importanza per quanto ora ci proponiamo. Capitolo VI Melchizedek Nelle tradizioni orientali è detto che il Soma, ad una certa epoca, non fu più conosciuto, di modo che fu necessario sostituirgli nei riti sacrificali un'altra bevanda, che non era più che una figura del Soma Primitivo. Questa parte fu tenuta principalmente dal vino, ed è a questo che si riferisce presso i greci una gran parte della leggenda di Dionisio. Ora, il vino è preso frequentemente per rappresentare la vera tradizione iniziatica. In ebraico le parole yain, vino, esod, mistero, si sostituiscono l'una con l'altra come a venti il medesimo numero. Presso i shufi, il vino simboleggia la conoscenza esoterica, la dottrina riservata all'elite e che non è adatta per tutti gli uomini, come non tutti possono bere il vino impunemente. Risulta di qui che l'uso del vino in un rito conferisce al rito un carattere nettamente iniziatico. Tale è in particolare il caso del sacrificio eucaristico di Melchisedec, ed è questo il punto essenziale sul quale ora dobbiamo soffermarci. Il nome di Melchisedec, o piuttosto Melchisedec, non è altra cosa, di fatti, che il nome sotto il quale nella tradizione giudaico-cristiana è espressamente designata la funzione di re del mondo. Abbiamo un poco esitato a denunciare questo fatto, che comporta la spiegazione di uno dei passi più enigmatici della Bibbia ebraica, ma, una volta presa la decisione di trattare questa questione del re del mondo, non c'era veramente possibile di passarlo sotto silenzio. Potremmo riprendere qui la parola pronunciata a questo proposito da San Paolo. Abbiamo su questo soggetto molte cose da dire, e delle cose difficili da spiegare, perché voi siete diventati tardi a comprendere. Ecco per prima cosa il testo stesso del passo biblico di cui si tratta. E Melchisedec, re di Salem, fece apportare del pane e del vino. Ed egli era prete del Dio Altissimo, El Elion. Ed egli benedisse Abramo, dicendo, Benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, possessore dei cieli e della terra. E Benedetto sia il Dio Altissimo che ha consegnato i tuoi nemici tra le tue mani. Ed Abramo gli dette la decima di tutto quello che aveva preso. Melchisedec è dunque re e prete contemporaneamente. Il suo nome significa re di giustizia, ed egli è nel medesimo tempo re di Salem, vale a dire della pace. Per prima cosa ritroviamo dunque qui la giustizia e la pace, vale a dire precisamente due attributi fondamentali del re del mondo. Bisogna osservare che la parola Salem, contrariamente all'opinione comune, non ha mai in realtà designato una città, ma che, se la si prende per il nome simbolico della residenza di Melchisedec, può essere considerata come un equivalente del termine Agartha. In ogni caso, è un errore scorgere in questa parola il nome primitivo di Gerusalemme perché questo nome era Yebus. Al contrario, se a questa città fu dato il nome di Gerusalemme quando gli ebrei vi stabilirono un centro spirituale, è per indicare che da quel momento essa era come un'immagine della vera Salem. Ed è da notare che il tempio fu edificato da Salomone, il cui nome, Shlomo, pure derivato da Salem, significa il Pacifico. Ecco ora in quali termini San Paolo commenta quello che è detto di Melchisedec. Questo Melchisedec, re di Salem, prete del Dio Altissimo, che andò incontro ad Abraham quando ritornò dalla sconfitta dei tre re, che lo benedisse, e da cui Abraham dette la decima di tutto il bottino, che è innanzitutto, secondo il significato del suo nome, re di giustizia, e poi re di Salem, vale a dire di pace. Che è senza padre, senza madre, senza genealogia, che non ha né principio né fine della sua vita, ma che è in tal modo fatto simile al figlio di Dio. Questo Melchisedec rimane prete a perpetuità. Ora Melchisedec è rappresentato come superiore ad Abraham perché lo benedisse, e indubbiamente è l'inferiore che viene benedetto dal superiore, e dal canto suo Abraham riconobbe questa superiorità, perché gli dette la decima, che è il contrassegno della sua dipendenza. Si ha qui una vera investitura, quasi nel senso feudale della parola, ma con la differenza che qui si tratta di una investitura spirituale, e possiamo aggiungere che qui trovasi il punto di congiunzione della tradizione ebraica con la grande tradizione primordiale. La benedizione di cui si è parlato è propriamente la comunicazione di un'influenza spirituale, della quale Abraham diviene oramai partecipe, e si può osservare che la formula adoperata mette Abraham in diretta relazione con il Dio Altissimo, invocato da questo stesso Abraham identificandolo con Jehova. Se Melchisedec è così superiore ad Abraham è perché l'Altissimo, Elion, che è il Dio di Melchisedec, è egli stesso superiore all'Onnipotente, Shaddai, che è il Dio di Abraham, o in altri termini perché il primo di questi due nomi rappresenta un aspetto divino più elevato del secondo. D'altra parte, ciò che è estremamente importante e che non pare sia mai stato segnalato, è che Elelion è l'equivalente di Emmanuel, avendo questi due nomi esattamente il medesimo numero. E questo collega direttamente la storia di Melchisedec a quella dei Re Magi, di cui abbiamo precedentemente spiegato il significato. Di più, si può anche vedervi questo. Il sacerdozio di Melchisedec è il sacerdozio di Elelion. Il sacerdozio cristiano è quello di Emmanuel. Se dunque Elelion e Emmanuel, questi due sacerdoci non ne formano che uno, ed il sacerdozio cristiano, che d'altronde comporta essenzialmente l'offerta eucaristica del pane e del vino, è veramente secondo l'ordine di Melchisedec. La tradizione giudaico-cristiana distingue due sacerdoci, l'uno secondo l'ordine di Aronne, l'altro secondo l'ordine di Melchisedec, e questo è superiore a quello, come lo stesso Melchisedec è superiore ad Abraham, da cui è discesa la tribù di Levi e, per conseguenza, la famiglia di Aronne. Questa superiorità è nettamente affermata da San Paolo, che dice, lo stesso Levi che percepisce la decima sul popolo di Israele, l'ha pagata, per così dire, per mezzo di Abraham. Non dobbiamo qui dilungarci maggiormente sopra il significato di questi due sacerdozi, ma citeremo ancora quest'altra parola di San Paolo. Qui, nel sacerdozio levitico, sono degli uomini mortali che percepiscono le decime, ma là è un uomo di cui è attestato che egli è vivente. Quest'uomo vivente, che è Melchisedec, è Manu, che permane di fatti perpetuamente, in ebraico leolam, vale a dire per tutta la durata del suo ciclo, manvantara, o specialmente del mondo che egli regge. È per questo che egli è senza genealogia, perché la sua origine è non umana, perché egli stesso è il prototipo dell'uomo, ed è ben realmente fatto simile al figlio di Dio, perché, per la legge che egli formula, è, per questo mondo, l'espressione e l'immagine del Verbo Divino. Vi sono ancora delle altre osservazioni da fare, e innanzitutto questa. Nella storia dei Re Magi vediamo tre personaggi distinti che sono i tre capi della gerarchia iniziatica. In quella di Melchisedec non ne vediamo che uno, il quale, però, può riunire in sé degli aspetti corrispondenti alle tre medesime funzioni. È in questo che taluni hanno distinto Adoni Tzedek, il Signore di Giustizia, che in qualche modo si sdoppia in Kohen Tzedek, il Prete di Giustizia, e Melchisedec, il Re di Giustizia. Questi tre aspetti, di fatti, possono essere considerati come riferentisi rispettivamente alla funzione del Brahatma, del Mahatma e del Mahanga. Sebbene Melchisedec allora non sia propriamente che il nome del terzo aspetto, esso d'ordinario è applicato per estensione all'insieme dei tre. E se è in tal modo applicato di preferenza agli altri, si è perché la funzione che esso esprime è la più prossima al mondo esteriore, e quindi quella manifestata più immediatamente. Del resto si può osservare che l'espressione di Re del Mondo, come pure quella di Re di Giustizia, non fa allusione direttamente che al potere regale. E d'altra parte si trova in India anche la designazione di Dharma Raja, che è equivalente alla lettera a quella di Melchisedec. Se ora prendiamo il nome di Melchisedec nel suo senso più stretto, gli attributi propri del Re di Giustizia sono la bilancia e la spada. E questi attributi sono pure quelli di Mikael, considerato come l'angelo del giudizio. Questi due emblemi rappresentano rispettivamente, nell'ordine sociale, le due funzioni amministrativa e militare, che appartengono propriamente agli Kshatriyas e che sono i due elementi costitutivi del potere regale. Sono anche, geroglificamente, i due caratteri che formano la radice ebraica ed araba Hak, che significa simultaneamente giustizia e verità, e che presso vari popoli antichi ha servito precisamente per designare la regalità. Hak è la potenza che fa regnare la giustizia, vale a dire l'equilibrio simboleggiato dalla bilancia, mentre la potenza stessa lo è dalla spada. Ed è appunto questo che caratterizza la funzione essenziale del potere regale, e d'altra parte è anche nell'ordine spirituale, la forza della verità. Bisogna aggiungere, d'altronde, che esiste anche una forma raddolcita di questa radice Hak, ottenuta sostituendo il segno della forza spirituale a quello della forza materiale, e questa forma Hak, in ebraico Hokmah, designa propriamente la saggezza, di sorta che essa si addice più specialmente all'autorità sacerdotale, come l'altra al potere regale. Questo è anche confermato dal fatto che le due forme corrispondenti si ritrovano con dei sensi similari per la radice Khan, la quale, in lingue assai diverse, significa potere, o potenza, ed anche conoscenza. Khan è soprattutto il potere spirituale od intellettuale, identico alla saggezza, di cui Cohen, prete in ebraico, e Khan è il potere materiale, donde varie voci esprimenti l'idea di possesso ed in particolare il nome di Kain. Queste radici e le loro derivazioni potrebbero senza dubbio prestarsi ancora a molte considerazioni, ma noi dobbiamo limitarci a quanto si riferisce più direttamente al soggetto di questo studio. Per completare quanto precede, torneremo a quel che la cabala ebraica dice della Shekina. Essa è rappresentata nel mondo inferiore dall'ultima delle dieci sefirot ed è chiamata Malkuth, vale a dire il regno, designazione che è abbastanza degna di nota dal punto di vista dal quale qui ci poniamo. Ma lo è ancora di più il fatto che, tra i sinonimi dati talora a Malkuth, si trova Tzedek, il giusto. Questo raccostamento di Malkuth e di Tzedek, o della regalità, il governo del mondo e della giustizia si ritrova precisamente nel nome di Melchizedek. Si tratta qui della giustizia distributiva e propriamente equilibrante, nella colonna di mezzo dell'albero sefirotico. Bisogna distinguerla dalla giustizia opposta alla misericordia ed identificata con il rigore nella colonna di sinistra, perché sono due aspetti differenti. E d'altronde, in ebraico, esistono due parole per designarli. La prima è Tzedakah e la seconda è Din. E il primo di questi due aspetti, che è la giustizia nel senso più stretto e ad un tempo più completo implicando l'idea di equilibrio, è legata indissolubilmente alla pace. Malkuth è il serbatoio dove confluiscono le acque che vengono dal fiume dall'alto, vale a dire tutte le emanazioni, grazie o influenze spirituali che essa sparge in abbondanza. Questo fiume dall'alto e le acque che ne discendono ricordano stranamente la parte attribuita al fiume celeste Ganja, nella tradizione hindù, e si potrebbe anche osservare che la Shakti, di cui Ganja è un aspetto, non è priva di certe analogie con la Shekhinah, non fosse altro che in ragione della funzione provvidenziale che è il loro comune. Il serbatoio delle acque celesti è naturalmente identico al centro spirituale del nostro mondo. Di là si dipartono i quattro fiumi del Pardes, dirigendosi verso i quattro punti cardinali. Per gli ebrei questo centro spirituale si identifica alla collina di Sion, a cui applicano l'appellativo di cuore del mondo, d'altronde comune a tutte le terre sante, e che per essi diviene in tal modo l'equivalente del Meru, degli Hindu, o dell'Albori, dei Persiani. Il tabernacolo della santità di Jehovah, la residenza della Shekhinah, è il santo dei santi il quale è il cuore del Tempio, che è esso stesso il centro di Sion, Gerusalemme, come la Santa Sion è il centro della terra di Israele, come la terra di Israele è il centro del mondo. Si può anche spingere le cose ancora più lontano, non solamente tutto quello che abbiamo qui enumerato, prendendolo in ordine inverso, ma anche dopo il tabernacolo nel Tempio, l'arca dell'Alleanza nel tabernacolo, sull'arca stessa dell'Alleanza, il luogo di manifestazione della Shekhinah, rappresentano come altrettante approssimazioni successive del polo spirituale. Eppure in questa maniera che Dante presenta Gerusalemme come il polo spirituale, come abbiamo avuto occasione di spiegare altrove, ma quando si esce dal punto di vista propriamente ebraico, questo diviene soprattutto simbolico, e non costituisce più una localizzazione nel senso stretto di questa parola. Tutti i centri spirituali secondari, costituiti in vista di adattazione della tradizione primordiale e delle condizioni determinate, sono, come abbiamo già mostrato, delle immagini del centro supremo. Sion può non essere in realtà che uno di questi centri secondari, e può, ciò nonostante, identificarsi simbolicamente con il centro supremo in virtù di questa somiglianza. Gerusalemme è, effettivamente, come indica il suo nome, un'immagine della vera Salem. Quel che abbiamo detto, e quel che diremo ancora della Terra Santa, che non è soltanto la terra di Israele, permetterà di comprenderlo senza difficoltà. A questo proposito, un'altra espressione notevolissima come sinonimo di Terra Santa è quella di Terra dei viventi. Essa designa manifestatamente il soggiorno di immortalità, di modo che, nel suo senso proprio e rigoroso, essa si applica al paradiso terrestre o ai suoi equivalenti simbolici. Ma questo appellativo è stato anche trasportato alle terre sante secondarie, ed in particolare alla terra di Israele. È detto che la terra dei viventi comprende sette terre, ed il voyo nota a questo proposito che questa terra è Canaan, nella quale vi erano sette popoli. Senza dubbio questo è esatto nel senso letterale. Ma, simbolicamente, queste terre potrebbero benissimo, come quelle di cui è questione d'altra parte nella tradizione islamica, corrispondere ai sette duipa, che, secondo la tradizione hindù, hanno il meru per centro comune, e sopra i quali ritorneremo più innanzi. È così pure, quando gli antichi mondi o le creazioni anteriori alla nostra sono raffigurati dai sette re di Edom, si ha là una rassomiglianza evidente con le ere dei sette manu, contate dall'inizio del Kalpa sino all'epoca attuale. Capitolo VII. Luz o il soggiorno di immortalità. Le tradizioni relative al mondo sotterraneo si ritrovano presso un gran numero di popoli. Noi non abbiamo l'intenzione di riunirle qui tutte quante, tanto più che talune non sembra abbiano una relazione molto diretta con la questione che ci interessa. Ciò nonostante, si potrebbe osservare in una maniera generale che il culto delle caverne è sempre più o meno legato all'idea di luogo interiore o di luogo centrale e che, da questo punto di vista, il simbolo della caverna e quello del cuore sono tra loro assai prossimi. D'altra parte, in Asia centrale come in America e forse anche altrove, esistono realmente delle caverne e dei sotterranei dove certi centri iniziatici hanno potuto mantenersi da molti secoli. Ma, a strazione fatta da questo, vi è in tutto quello che è stato riportato su questo argomento una parte simbolica che non è molto difficile di stricare, e possiamo pensare che sono precisamente delle ragioni di ordine simbolico che hanno determinato la scelta dei luoghi sotterranei per lo stabilimento di questi centri iniziatici, assai più che dei motivi di semplice prudenza. Fra le tradizioni cui facevamo orora allusione, venne una che presenta un interesse particolare. Essa trovasi nel giudaismo e concerne una misteriosa città chiamata Luz. Questo nome era originariamente quello del luogo dove Giacobbe ebbe il sogno in seguito al quale egli lo chiamò Beitel, vale a dire Casa di Dio. Torneremo più innanzi su questo punto. È detto che l'angelo della morte non può penetrare in questa città e non vi ha alcun potere, e con un raccostamento abbastanza singolare ma mai significativo, taluni la situano presso l'alborii, che è particolarmente per i persiani il soggiorno di immortalità. Presso di Luz vi è, si dice, un mandorlo, anch'esso chiamato Luz in ebraico, alla cui base vi è un foro attraverso il quale si penetra in un sotterraneo, e questo sotterraneo conduce alla città stessa che è interamente nascosta. La parola Luz, nelle sue varie accezioni, pare d'altronde derivi da una radice designante tutto quello che è nascosto, coperto, avviluppato, silenzioso, segreto, ed è degno di nota che le parole designanti il cielo hanno primitivamente il medesimo significato. Si riaccosta ordinatamente celum al greco koilon, cavo, il che può anche avere un rapporto con la tanto più che varrone indica questo avvicinamento in questi termini, a cavo celum. Ma bisogna anche osservare che la forma più antica e più corretta sembra sia celum, che ricorda molto da vicino la parola celare, nascondere. D'altra parte, in sanscrito varuna viene dalla radice var, coprire, che è parimente il senso della radice cal, qui si riattaccano il latino celare, altra forma di celare, ed il suo sinonimo greco kaluptein, ed il greco uranos, che non è un'altra forma del medesimo nome, poiché var si trasforma facilmente in ur. Queste parole possono dunque significare quello che copre, quello che nasconde, e quest'ultimo senso è doppio, è quello che è nascosto ai sensi, il dominio soprassensibile, ed è anche, nei periodi di occultazione, la tradizione che cessa di essere manifestate esteriormente ed apertamente, poiché allora il mondo celeste diviene il mondo sotterraneo. Vi è ancora da stabilire, sotto un altro rapporto, un accostamento con il cielo. Luz è chiamata alla città celeste, e questo colore celeste è quello dello zaffiro. In India si dice che il colore celeste dell'atmosfera è prodotto dalla riflessione della luce sopra una delle facce del Meru, la faccia meridionale che guarda verso il Jambudwipa e che è fatta di zaffiro. È facile capire che questo si riferisce al medesimo simbolismo. Lo Jambudwipa non è solamente l'India, come si crede ordinariamente, ma rappresenta in realtà tutto l'assieme del mondo terrestre nel suo stato attuale, e di fatto si può considerare questo mondo come situato tutto intero al sud del Meru, perché questi è identificato con il polo settentrionale. I sette Duipas, letteralmente isole o continenti, emergono successivamente nel corso di certi periodi ciclici, di modo che ciascuno di essi è il mondo terrestre considerato nel corrispondente periodo. Essi formano un loto, il cui centro è il Meru, rapporto al quale sono orientati secondo le sette regioni dello spazio. Vi è dunque una faccia del Meru che è rivolta verso ciascuno dei sette Duipas. Se ciascuna di queste facce ha uno dei colori dell'arcobaleno, la sintesi di questi sette colori è il bianco, che dovunque è attribuito all'autorità spirituale suprema, e che è il colore del Meru considerato in sé stesso. Vedremo che effettivamente il Meru è designato come la montagna bianca, mentre gli altri rappresentano soltanto i suoi aspetti rispetto ai diversi Duipas. Sembra che, per il periodo di manifestazione di ogni Duipa, vi sia una posizione diversa del Meru, ma in realtà esso è immutabile, poiché è il centro, e quello che è cambiato da un periodo all'altro è l'orientazione del mondo terrestre rispetto ad esso. Torniamo alla parola ebraica Lutz, i cui vari significati sono assai degni di attenzione. Questa parola ha ordinariamente il senso di mandorla, ed anche di mandorlo, designando per estensione tanto l'albero quanto il suo frutto, o di nocciolo. Ora il nocciolo è quanto vi ha di più interno e di più nascosto, ed è interamente chiuso, donde l'idea di inviolabilità che si ritrova nel nome della garta. La stessa parola Lutz è pure il nome dato ad una particella corporea indistruttibile, rappresentata simbolicamente come un osso durissimo e dalla quale l'anima rimarrebbe legata dopo la morte e sino alla resurrezione. Come il nocciolo contiene il germe e come l'osso contiene il midollo, questo Lutz contiene gli elementi virtuali necessari alla restaurazione dell'essere, e questa restaurazione si opererà sotto l'influenza della rugiada celeste, che farà rivivere le ossa disseccate, cosa a cui fa allusione, nel modo più netto, questa parola di San Paolo. Seminato nella corruzione, esso risusciterà nella gloria. Qui, come sempre, la gloria si riferisce alla Shekina, considerata nel mondo superiore, e con la quale la rugiada celeste ha una stretta relazione, come ci se ne è potuti rendere conto precedentemente. Il Lutz, essendo imperituro, è nell'essere umano. Il nocciolo di immortalità, come il luogo designato dallo stesso nome, è il soggiorno di immortalità. Là si ferma, nei due casi, il potere dell'angelo della morte. È in qualche modo l'uovo o l'embrione dell'immortale. Esso può anche essere paragonato alla crisalide, da cui deve uscire la farfalla, paragone che traduce esattamente la sua funzione rispetto alla resurrezione. Il Lutz viene situato verso l'estremità inferiore della colonna vertebrale. Questo può sembrare strano, ma si illumina mediante un ravvicinamento con quanto la tradizione hindù dice della forza chiamata Kundalini, che è una forza della Shakti, considerata come immanente all'essere umano. Questa forza è rappresentata sotto la figura di un serpente attorcigliato attorno a sé stesso in una regione dell'organismo sottile, corrispondente precisamente anche all'estremità inferiore della colonna vertebrale. Così almeno accade per l'uomo ordinario, ma, per l'effetto di pratiche quali quelle dell'ata yoga, essa si sveglia, si dispiega e si innalza attraverso le ruote, chakras o loti, kamalas, che rispondono ai vari plessi per pervenire alla regione corrispondente al terzo occhio, vale a dire l'occhio frontale di Shiva. Questo stato rappresenta la restituzione dello stato primordiale in cui l'uomo recupera il senso dell'eternità ed ottiene per tale via quella che altrove abbiamo chiamato l'immortalità virtuale. Fin qui siamo ancora in uno stato umano. In una fase ulteriore Kundalini raggiunge finalmente la corona della testa e quest'ultima fase si riferisce alla conquista effettiva degli stati superiori dell'essere. Quel che sembra risulti da questo avvicinamento è che la localizzazione del lutz nella parte inferiore dell'organismo si riferisce solamente alla condizione dell'uomo decaduto e per l'umanità terrestre considerata nel suo assieme accade lo stesso per la localizzazione del centro spirituale supremo nel mondo sotterraneo. Capitolo ottavo. Il centro supremo nascosto durante il Kali Yuga. L'Agarta, dicesi di fatti, non fu sempre sotterranea e non lo rimarrà sempre. Verrà un tempo in cui, secondo le parole riportate da Ossendoski, i popoli di Agarti usciranno dalle loro caverne ed appariranno sopra la superficie della terra. Prima della sua sparizione dal mondo visibile questo centro portava un altro nome, perché quello di Agarta che significa inafferrabile o inaccessibile ed anche inviolabile perché è il soggiorno della pace, Salem, non sarebbe allora stato adatto. Ossendoski precisa che è divenuto sotterraneo più di 6.000 anni fa ed accade che questa data corrisponde con un'approssimazione abbastanza sufficiente all'inizio del Kali Yuga o Età Nera, l'Età del Ferro degli Antichi Occidentali, l'ultimo dei quattro periodi in cui si divide il Manvantara. La sua riapparizione deve dunque coincidere con la fine del medesimo periodo. Abbiamo parlato più sopra delle allusioni fatte da tutte le tradizioni a qualche cosa che sarebbe perduto o nascosto e che si rappresenta sotto diversi simboli. Ciò, quando lo si prenda nel suo senso generale, quello concernente tutto l'assieme dell'umanità terrestre, si riferisce precisamente alle condizioni del Kali Yuga. Il periodo attuale è dunque un periodo di oscuramento e di confusione. Le sue condizioni sono tali che, sintanto che persisteranno, la conoscenza iniziatica deve necessariamente rimanere nascosta, donde il carattere dei misteri dell'antichità detta storica, che non risale neppure sino al principio di questo periodo, è delle organizzazioni segrete di tutti i popoli. Organizzazioni che danno un'iniziazione effettiva là dove sussiste ancora una vera dottrina tradizionale, ma che non ne offrono più che l'ombra quando lo spirito di questa dottrina ha cessato di vivificare i simboli i quali non ne sono che la rappresentazione esteriore. E questo perché, per diverse ragioni, ogni legame cosciente con il centro spirituale del mondo ha finito con l'essere rotto, il che è il senso più particolare della perdita della tradizione. Il senso concernente è specialmente tale o tal'altro centro spirituale che cessa di essere in relazione diretta ed effettiva con il centro supremo. Si deve dunque, come lo dicevamo già precedentemente, parlare di qualche cosa che è nascosto, piuttosto che veramente perduto, poiché non è perduto per tutti, e taluni lo posseggono ancora integralmente. E se così è, altri hanno sempre la possibilità di ritrovarlo, purché lo cerchino come si conviene, vale a dire, purché la loro intenzione sia diretta in tal guisa che, mediante le vibrazioni armoniche che essa risveglia secondo la legge delle azioni e reazioni concordanti, essa possa metterli in effettiva comunicazione spirituale con il centro supremo. Questa direzione dell'intenzione ha d'altronde in tutte le forme tradizionali la sua rappresentazione simbolica. Voglian parlare dell'orientazione rituale. Questa, di fatti, è propriamente la direzione verso un centro spirituale che, quale sia, è sempre un'immagine del vero centro del mondo. Ma, a misura che si avanza nel Kali Yuga, l'unione con questo centro, vi è più chiuso e nascosto, diviene più difficile, nel medesimo tempo che divengono più rari i centri secondari che lo rappresentano esteriormente. Eppure, quando questo periodo terminerà, la tradizione dovrà essere nuovamente manifestata nella sua integralità, perché il principio di ogni manvantara, coincidendo con la fine del precedente, implica necessariamente per l'umanità terrestre il ritorno allo stato primordiale. In Europa, ogni legame stabilito coscientemente con il centro per mezzo di organizzazioni regolari è attualmente rotto. Ed è così già da parecchi secoli. D'altronde, questa rottura non si è compiuta ad un tratto solo, ma in parecchie fasi successive. La prima di queste fasi rimonta all'inizio del XIV secolo. Quel che abbiamo già detto altrove degli ordini di cavalleria può far comprendere che una delle principali loro funzioni era quella di assicurare una comunicazione tra l'Oriente e l'Occidente. Comunicazione di cui è possibile di afferrare la vera portata se si osserva che il centro di cui parliamo è sempre stato descritto, almeno in riguardo ai tempi storici, come situato dalla parte di Oriente. Ciò nonostante, dopo la costruzione dell'Ordine del Tempio, il Rosa Crucianismo, o ciò a cui devasi in seguito tale nome, continuò ad assicurare il medesimo legame, benché in maniera più dissimulata. La Rinascenza e la Riforma segnarono una nuova fase critica. Ed infine, secondo quanto sembra indicare Saint-Yves, la rottura completa avrebbe coinciso con i Trattati di Vestfalia, che nel 1648 terminarono la Guerra dei Trent'anni. Ora, è notevole che parecchi autori abbiano affermato precisamente che poco dopo la Guerra dei Trent'anni i veri Rosa Croce abbiano lasciato l'Europa per ritirarsi in Asia, e ricorderemo a questo proposito che gli adepti rosa-cruciani erano in numero di dodici, come membri del cerchio più interiore della garta e conformemente alla costituzione comune a tanti centri spirituali formati ad immagine di questo centro supremo. A partire da quest'ultima epoca, il deposito della conoscenza iniziatica effettiva non è più custodito realmente da alcuna organizzazione occidentale. Così, Swedenborg dichiara che ormai è tra i savi del Tibet e della Tartaria che bisogna cercare la parola perduta. E dal suo lato, Anna Caterina Emmerich ha la visione di un luogo misterioso che essa chiama la Montagna dei Profeti, e che essa situa nelle medesime regioni. Aggiungiamo che è dalle informazioni frammentarie che Madame Lavaschi poter raccogliere su questo argomento, senza d'altronde comprenderne veramente il significato, che nacque in essa l'idea della gran loggia bianca che potremmo chiamare non più un'immagine, ma semplicemente una caricatura o una parodia immaginaria della garta. Capitolo IX L'Onfalos e i Betili In base a quanto riporta Ossendoschi, il re del mondo apparve un tempo parecchie volte nell'India e nel Siam, benedicendo il popolo con un pomo di oro sormontato da un agnello. E questo particolare prende tutta la sua importanza quando lo si riaccosta a quel che Saint-Yves dice del ciclo dell'agnello e dell'ariete. Da un altro lato, e questo è ancora più degno di nota, nella simbolica cristiana esistono innumerevoli rappresentazioni dell'agnello, sopra una montagna da cui discendono quattro fiumi, che sono evidentemente identici ai quattro fiumi del paradiso terrestre. Ora, noi abbiamo detto che la garta, anteriormente all'inizio del Kali-Yuga, portava un altro nome, e questo nome era quello di Paradesha, che in sanscrito significa contrada suprema. Il che si applica bene al centro spirituale per eccellenza, designato anche come il cuore del mondo. È da questa parola che i caldei hanno fatto Pardes e gli occidentali Paradiso. Tale è il senso originale di quest'ultima parola, e questo deve finire di far comprendere perché noi dicevamo precedentemente che sotto una forma o sotto un'altra, quello di cui trattasi sempre è la medesima cosa del Pardes della Kabbalah ebraica. D'altra parte, riportandosi a quello che abbiamo spiegato sul simbolismo del polo, è facile di vedere anche che la montagna del paradiso terrestre è identica alla montagna polare di cui è questione sotto nomi diversi in quasi tutte le tradizioni. Noi abbiamo già menzionato il Meru degli Hindu e l'Albori dei Persiani, così come pure il Monsalvo della leggenda occidentale del Graal. Citeremo anche la montagna di Kaf, degli Arabi, ed anche l'Olimpo dei Greci, che per molti rispetti ha il medesimo significato. Si tratta sempre di una regione che, come il paradiso terrestre, è divenuta inaccessibile all'umanità ordinaria e che è situata al di là della portata di tutti i cataclismi che mettono il mondo a su quadro alla fine di certi periodi ciclici. Questa regione è veramente la contrada suprema. Del resto, secondo certi testi vedici ed avestici, la sua situazione sarebbe stata primitivamente polare, anche nel senso letterale di questa parola. E, qualunque possa essere la sua localizzazione attraverso le varie fasi della storia dell'umanità terrestre, nel senso simbolico essa rimane sempre polare, poiché rappresenta essenzialmente l'asse fisso attorno a cui si compie la rivoluzione di tutte le cose. La montagna raffigura naturalmente il centro del mondo prima del Kali Yuga, vale a dire quando in qualche modo esisteva apertamente e non era ancora sotterraneo. Essa corrisponde dunque a quella che potrebbe essere detta la sua situazione normale, al di fuori del periodo oscuro le cui speciali condizioni implicano una specie di rovesciamento dell'ordine stabilito. Bisogna aggiungere d'altronde che, a parte queste considerazioni riferentisi alle leggi cicliche, i simboli della montagna e della caverna hanno l'uno e l'altro la loro ragione di essere, e che esiste tra di loro un vero complementarismo. Inoltre, la caverna può essere considerata come situata all'interno stesso della montagna, o immediatamente al di sotto di questa. Vi sono ancora degli altri simboli che, nelle tradizioni antiche, rappresentano il centro del mondo. Uno dei più notevoli è forse quello dell'Onphalos, che si ritrova ugualmente presso quasi tutti i popoli. La parola greca Onphalos significa ombelico, ma designa anche in una maniera generale tutto quello che è centro, e più specialmente il mozzo di una ruota. In sanscrito la parola ruibi ha similmente queste diverse accezioni, ed accade la stessa cosa nelle lingue celtiche e germaniche, con i derivati della medesima radice, che vi si trova sotto le forme di nab e nav. D'altra parte, in gallese, la parola nav, che evidentemente è identica a queste ultime, ha il senso di capo, e si applica anche a Dio. È dunque l'idea del principio generale che qui viene espressa. Il senso di mozzo ha d'altronde a questo proposito un'importanza tutta speciale, perché la ruota è dappertutto un simbolo del mondo che compie la sua rotazione attorno ad un punto fisso, simbolo che va dunque riaccostato a quello dello swastika, ma in questo non è tracciata la circonferenza che rappresenta la manifestazione, di modo che è il centro stesso che viene designato direttamente. Lo swastika non è una figura del mondo, ma si bene dell'azione del principio rispetto al mondo. Il simbolo dell'Onfalos poteva essere collocato in un luogo che era semplicemente il centro di una regione determinata. Centro spirituale, d'altronde, assai più che centro geografico, sebbene i due abbiano potuto coincidere in certi casi. Ma, se così accadeva, si è perché questo punto era veramente, per il popolo abitante nella regione considerata, l'immagine visibile del centro del mondo, nel modo stesso che la tradizione propria a questo popolo non era che un'adattazione della tradizione primordiale sotto la forma che meglio conveniva alla sua mentalità e alle sue condizioni di esistenza. Ordinariamente si conosce soprattutto l'Onfalos del Tempio di Delfo. Questo tempio era ben realmente il centro spirituale dell'antica Grecia, e, senza insistere su tutte le ragioni che potrebbero giustificare questa asserzione, faremo solamente notare che era là che si riuniva, due volte l'anno, il Consiglio degli Anfizioni, composto dai rappresentanti di tutti i popoli ellenici, e che formava d'altronde il solo legame effettivo tra questi popoli. Legame la cui forza consisteva precisamente nel suo carattere essenzialmente tradizionale. La rappresentazione materiale dell'Onfalos consisteva generalmente in una pietra sacra, ciò che spesso veniva chiamato un betilo, e quest'ultima parola pare non sia altra cosa che l'ebraico Beitel, casa di Dio. Il nome stesso dato da Giacobbe al luogo dove il Signore gli si era manifestato in un sogno. E Giacobbe si svegliò dal suo sonno e disse, sicuramente il Signore è in questo luogo, ed io non lo sapevo. Ed egli si impaurì e disse, com'è terribile questo luogo! È la casa di Dio, è la porta dei cieli. E Giacobbe si levò presto la mattina, e prese la pietra di cui aveva fatto il suo capezzale per consacrarla. Ed egli dette a questo luogo il nome di Beitel, ma il primo nome di questa città era Luz. Abbiamo spiegato più sopra il significato di questa parola, Luz. D'altra parte, è anche detto che Beitel, casa di Dio, divenne in seguito Beit Lehem, casa del pane, la città dove nacque il Cristo. La relazione simbolica che esiste tra la pietra ed il pane sarebbe degna d'altronde di molta attenzione. Quel che occorre osservare ancora è che il nome di Beitel non si applica solamente al luogo, ma anche alla pietra stessa. E questa pietra che io ho innalzato come un pilastro sarà la casa di Dio. E dunque questa pietra che deve essere propriamente l'abitacolo divino, Mishkan, secondo la disegnazione che più tardi verrà data al tabernacolo, vale a dire la sede della Shekina. Tutto ciò naturalmente si collega alla questione delle influenze spirituali, Berakot, e quando si parla del culto delle pietre, che fu comune a tanti popoli antichi, bisogna ben comprendere che questo culto non era rivolto alle pietre, ma alla divinità di cui esse erano la residenza. La pietra rappresentante l'Onfalos poteva avere la forma di un pilastro come la pietra di Giacobbe. È molto probabile che presso i popoli celtici certi menirs avevano questo significato, e gli oracoli venivano resi accanto a queste pietre come a Delfo, il che si spiega facilmente, da poi che erano considerate come la dimora della divinità. La casa di Dio d'altronde si identifica in modo naturalissimo con il centro del mondo. L'Onfalos poteva anche essere rappresentato da una pietra di forma conica, come la pietra nera di Cibele, oppure Ovoide. Il cono ricordava la montagna sacra, simbolo del polo o dell'asse del mondo. Quanto alla forma Ovoide, essa si riferisce direttamente ad un altro importantissimo simbolo, quello dell'uovo del mondo. Bisogna aggiungere ancora che, se l'Onfalos era più abitualmente rappresentato da una pietra, ha potuto anche essere rappresentato talora da un monticello, una specie di tumulo, il quale è ancora un'immagine della montagna sacra. Così in Cina, nel centro di ogni regno o stato feudale, si innalzava in altri tempi un monticello in forma di piramide quadrangolare, formato dalla terra delle cinque regioni. Le quattro facce corrispondevano ai quattro punti cardinali, ed il vertice al centro stesso. Cosa singolare, queste cinque regioni le ritroveremo in Irlanda, dove la pietra eretta del capo era in simil modo innalzata nel centro di ogni dominio. Tra i paesi celtici è di fatti l'Irlanda che fornisce il maggior numero di dati relativi all'Onfalos. Essa era un tempo divisa in cinque regni, di cui uno portava il nome di Mide, restato sotto la forma anglicizzata myth, che è l'antica parola celtica median, mezzo, identica al latino medius e all'italiano medio. Questo regno di Mide, che era stato formato con porzioni prelevate sui territori degli altri quattro, era divenuto l'appannaggio del supremo re d'Irlanda, cui gli altri re erano subordinati. A Ushnag, che rappresenta con bastante esattezza il centro del paese, era drizzata a una pietra gigantesca chiamata Ombelico della Terra, e designata anche sotto il nome di Pietra delle Porzioni, a il Namuran, perché essa segnava il sito dove convergevano all'interno del regno di Mide le linee di separazione dei quattro regni primitivi. Vi si teneva annualmente, al primo di maggio, un'assemblea generale affatto paragonabile alla riunione annuale dei druidi nel luogo consacrato centrale, Mediolanon o Medionemeton della Gallia. Nel paese dei Carnuti, essi imponeva parimente l'avvicinamento con l'assemblea degli anfizioni a Delfo. Questa divisione dell'Irlanda in quattro regni, più la regione centrale che era la residenza del Supremo, si collega a delle tradizioni estremamente antiche. Difatti l'Irlanda, per questa ragione, fu chiamata l'Isola dei Quattro Signori. Ma questa denominazione, come pure d'altronde quella di Isola Verde, Erin, si applicava anteriormente ad un'altra terra assai più settentrionale, oggi sconosciuta, forse scomparsa, o Gigia, o piuttosto Tule, che fu uno dei principali centri spirituali, se non proprio il centro supremo di un certo periodo. Il ricordo di quest'Isola dei Quattro Signori si ritrova persino nella tradizione cinese, cosa che pare non sia mai stata notata. Ecco un testo taoista che ne fa fede. L'imperatore Yao si dette molta pena e si immaginò di aver regnato idealmente bene. Dopo aver visitato i Quattro Signori nella lontana isola di Kouchei, abitata da uomini di veri, Chen Zhen, vale a dire uomini reintegrati nello stato primordiale, riconobbe che aveva sciupato ogni cosa. L'ideale è l'indifferenza, o piuttosto è il distacco nell'attività non agente del superuomo che lascia che la ruota cosmica giri. D'altra parte, i Quattro Signori si identificano con i Quattro Marajà o Grandi Re, che secondo le tradizioni hindu e tibetane presiedono ai Quattro Punti Cardinali. Essi corrispondono nel medesimo tempo agli elementi. Il Signore Supremo, il Quinto che risiede nel centro sulla Montagna Sacra, rappresenta allora l'Etere, Akasha, la Quintessenza degli Ermetisti, l'elemento primordiale da cui procedono gli altri quattro. E delle tradizioni analoghe si trovano anche nell'America Centrale. Capitolo decimo. Nomi e rappresentazioni simboliche dei centri spirituali. Potremmo ancora citare, per quel che concerne la Contrada Suprema, ben altre tradizioni concordanti. Vi è in particolare per disegnarla un altro nome, probabilmente ancora più antico di quello di Paradescia. Questo nome è quello di Tula, da cui i Greci fecero Tule, e, come ora abbiamo visto, questa Tule era verosimilmente identica alla primitiva Isola dei Quattro Signori. Bisogna osservare, d'altronde, che lo stesso nome di Tula è stato dato a delle regioni assai diverse, poiché anche oggi lo si ritrova tanto in Russia che nell'America Centrale. Senza dubbio si deve pensare che ciascuna di queste regioni fu, in un'epoca più o meno lontana, la sede di un potere spirituale che era come un'emanazione di quello della Tula primordiale. E' noto che la Tula messicana deve la sua origine ai Toltechi. Questi, dicesi, venivano da Aztlan, la terra nel mezzo delle acque, la quale, evidentemente, non è altro che l'Atlantide, ed essi avevano apportato questo nome di Tula dal loro paese d'origine. Il centro a cui essi lo dettero dovette probabilmente sostituire in una certa misura quello del continente scomparso. Ma, d'altra parte, bisogna distinguere la Tula Atlante dalla Tula Iperborea, ed è quest'ultima che, in realtà, rappresenta il centro primo e supremo per l'assieme della Manvantara attuale. E' essa che fu l'isola sacra per eccellenza, e, come dicevamo più sopra, la sua situazione era in origine letteralmente polare. Tutte le altre isole sacre che sono designate dappertutto con dei nomi di identico significato non ne furono che delle immagini, e questo si applica anche al centro spirituale della tradizione atlante, il quale non resse che un ciclo storico secondario subordinato al Manvantara. La parola Tula, in sanscrito, significa bilancia, e designa in particolare il segno zodiacale che ha questo nome, ma, secondo una tradizione cinese, la bilancia celeste è stata primitivamente l'orsa maggiore. Questa osservazione è della massima importanza, perché il simbolismo che si collega all'orsa maggiore è legato naturalmente, nel modo più stretto, a quello del polo. Non possiamo qui diffonderci su questa questione che richiederebbe di essere trattata in uno studio particolare. Sarebbe anche da esaminare il rapporto che può esistere tra la bilancia polare e la bilancia zodiacale. Questa, d'altronde, è considerata come il segno del giudizio, e quello che precedentemente abbiamo detto della bilancia come attributo della giustizia, a proposito di Melchizedek, può fare comprendere che il suo nome è stato la designazione del centro spirituale supremo. Tula è chiamata anche l'isola bianca, ed abbiamo detto che questo colore è quello che rappresenta l'autorità spirituale. Nelle tradizioni americane, Aztlan ha per simbolo una montagna bianca, ma questa figurazione si applicava primieramente alla tula iperborea e dalla montagna polare. In India l'isola bianca, Sueta Duipa, che generalmente viene situata nelle lontane regioni del nord, è considerata come il soggiorno dei beati, cosa che la identifica chiaramente con la terra dei viventi. Vi è ciò nonostante un'apparente eccezione. Le tradizioni celtiche parlano soprattutto dell'isola verde come di isola dei santi o isola dei beati, ma nel centro di quest'isola si innalza la montagna bianca che si dice non venga mai sommersa da alcun diluvio, ed il cui vertice ha il colore della porpora. Questa montagna del sole, come essa è parimenti chiamata, è la medesima casa del Meru. Questo, che è anche la montagna bianca, è circondato da una cintura verde per il fatto che è situato in mezzo al mare, e sulla sua vetta brilla il triangolo di luce. Alla designazione dei centri spirituali come l'isola bianca o la montagna bianca, designazione che, ricordiamolo ancora, ha potuto essere come le altre applicata a dei centri secondari e non unicamente al centro supremo a cui essa si addiceva in primo luogo, bisogna collegare i nomi di luoghi, contrade o città, che esprimono parimenti l'idea di bianchezza. Ne esiste un numero assai grande, da Albione all'Albania, passando per Alba Longa, la città madre di Roma, e le altre città antiche che hanno potuto portare il medesimo nome. Presso i greci il nome della città di Argo ha il medesimo significato, e la ragione di questi fatti apparirà nettamente da quello che ne diremo tra poco. Rimane ancora da fare un'altra osservazione sopra la rappresentazione del centro spirituale come un'isola che racchiude d'altronde la montagna sacra, perché, simultaneamente alla possibile esistenza effettiva di una tale localizzazione, quantunque tutte le terre sante non siano delle isole, essa deve anche avere avuto un significato simbolico. Gli stessi fatti storici e soprattutto quelli della storia sacra sono di fatti a modo loro, traduzione della verità di ordine superiore, in ragione della legge di corrispondenza che è il fondamento stesso del simbolismo e che unisce tutti i mondi nell'armonia totale ed universale. L'idea evocata dalla rappresentazione di cui si tratta è essenzialmente quella di stabilità, che abbiamo precisamente indicata come caratteristica del polo. L'isola rimane immutabile in mezzo all'agitazione incessante dei flutti, agitazione che è qui un'immagine di quella del mondo esteriore, e bisogna avere superato il mare delle passioni per pervenire al monte della salute, al santuario della pace. Capitolo undicesimo. Localizzazione dei centri spirituali. In quanto precede, abbiamo lasciato quasi completamente da parte la questione della localizzazione effettiva della contrada suprema, questione molto complessa, e d'altronde affatto secondaria dal punto di vista da cui abbiamo voluto metterci. Pare che vi siano da considerare parecchie localizzazioni successive corrispondenti a diversi cicli, suddivisioni di un altro ciclo più esteso che è il Manvantara. Se d'altronde si considerasse l'assieme del Manvantara ponendoci in qualche modo al di fuori del tempo, vi sarebbe un ordine gerarchico da osservare fra queste localizzazioni, corrispondente alla costituzione delle forme tradizionali, che non sono, insomma, che delle adattazioni della tradizione principale e primordiale che domina tutto il Manvantara. D'altra parte, ricorderemo ancora una volta che possono anche esservi simultaneamente, oltre al centro spirituale, parecchi altri centri che vi si collegano e che ne sono come altrettante immagini, sorgente questa di confusioni assai facili a commettere, tanto più che questi centri secondari, essendo più esteriori, sono per questo stesso fatto più appariscenti del centro supremo. Sopra quest'ultimo punto abbiamo già notato particolarmente la somiglianza tra l'assa, centro della maismo, e la garta. Aggiungeremo ora che, anche in Occidente, si conoscono ancora almeno due città la cui stessa disposizione topografica presenta delle particolarità che, originariamente, hanno avuto una simile ragione di essere, Roma e Gerusalemme, ed abbiamo veduto più sopra che quest'ultima era effettivamente un'immagine visibile della misteriosa Salem di Melchizedek. Esisteva, di fatti, nell'antichità, quella che si potrebbe chiamare una geografia sacra o sacerdotale, e la posizione della città e dei templi non era arbitraria, ma determinata in base a leggi molto precise. Si può per questo mezzo presentire i legami che univano l'arte sacerdotale e l'arte regale all'arte dei costruttori, come pure le ragioni per le quali le antiche corporazioni erano in possesso di una vera tradizione iniziatica. D'altronde, tra la fondazione di una città e la costituzione di una dottrina, o di una nuova forma tradizionale per adattamento a delle condizioni definite di tempo e di luogo, vi era un tale rapporto che spesso, la prima, era presa per simboleggiare la seconda. Naturalmente bisognava ricorrere a delle precauzioni affatto speciali, quando si trattava di fissare la postazione di una città destinata a diventare, sotto un rapporto o sotto un altro, la metropoli di una parte del mondo, ed i nomi delle città, come pure quanto viene riportato sulle circostanze della loro fondazione, meriterebbero di essere accuratamente esaminati da questo punto di vista. Senza diffonderci sopra queste considerazioni che si riferiscono solo indirettamente al nostro soggetto, diremo ancora che un centro del genere di quelli di cui abbiamo ora parlato esisteva in Creta nell'epoca preellenica, e che sembra che l'Egitto ne abbia avuti parecchi, fondati probabilmente in epoche successive, come Menfi e Tebe. Il nome di quest'ultima città, che fu anche quella di una città greca, deve trattenere più particolarmente la nostra attenzione come designazione di centri spirituali, in ragione alla sua manifesta identità con quello della teba ebraica, vale a dire dell'arca del diluvio. Anche questa è una rappresentazione del centro supremo considerato specialmente in quanto assicura la conservazione della tradizione, in un certo modo allo stato di inviluppo nel periodo transitorio che è come l'intervallo dei due cicli e che è contrassegnato da un cataclisma cosmico che distrugge lo stato anteriore del mondo per far posto ad un nuovo stato. La parte del Noè biblico è simile a quella rappresentata nella tradizione hindù da Satyavrata, che diventa poi, sotto il nome di Vaivasuata, il mano attuale. Ma occorre notare che, mentre quest'ultima tradizione si riferisce così all'inizio del moderno Manvantara, il diluvio biblico segna solamente l'inizio di un altro ciclo più ristretto, incluso in questo stesso Manvantara. Non si tratta del medesimo avvenimento, ma soltanto di due avvenimenti analoghi tra loro. Quello che ancora è assai degno di nota è il rapporto che esiste tra il simbolismo dell'arca e quello dell'arcobaleno, rapporto suggerito nel testo biblico dell'apparizione dell'arcobaleno dopo il diluvio come segno di alleanza tra Dio e le creature terrestri. L'arca, durante il cataclisma, galleggia sull'oceano delle acque inferiori. L'arcobaleno, nel momento che segna il ristabilimento dell'ordine e il rinnovamento di tutte le cose, appare in mezzo alle nubi, vale a dire, nella regione delle acque superiori. Si tratta dunque di una relazione di analogia nel senso più stretto di questa parola, vale a dire che le due figure sono inverse e complementari l'una rispetto all'altra. La convessità dell'arca è rivolta verso il basso, quella dell'arcobaleno verso l'alto, e la loro riunione forma una figura circolare o ciclica completa, di cui esse sono come le due metà. Questa figura, di fatti, era completa al principio del ciclo. Essa è la sezione verticale di una sfera la cui sezione orizzontale è rappresentata dalla cinta circolare del paradiso terrestre. E questa è divisa da una croce formata dai quattro fiumi che scaturiscono dalla montagna polare. La ricostruzione deve effettuarsi alla fine del medesimo ciclo. Ma allora, nella figura della Gerusalemme celeste, il circolo è costituito da un quadrato, e questo sta ad indicare la realizzazione di quello che gli ermetisti designavano simbolicamente come la quadratura del cerchio. La sfera, che rappresenta lo sviluppo delle possibilità per mezzo delle espansioni dal punto primordiale e centrale, si trasforma in un cubo quando questo sviluppo è compiuto e l'equilibrio finale è raggiunto per il ciclo considerato. Capitolo 12. Qualche conclusione. Dalla concorde testimonianza di tutte le tradizioni si delinea molto nettamente una conclusione. È l'affermazione che esiste una terra santa per eccellenza, prototipo di tutte le altre terre sante, centro spirituale a cui tutti gli altri centri sono subordinati. La terra santa e anche la terra dei santi, la terra dei beati, la terra dei viventi, la terra di immortalità. Tutte queste espressioni sono equivalenti e bisogna ancora aggiungervi quella di terra pura, che Platone applica precisamente al soggiorno dei beati. Abitualmente questo soggiorno viene situato in un mondo invisibile, ma se si vuole comprendere di che cosa si tratta, non bisogna dimenticare che la stessa cosa accade per le gerarchie spirituali di cui parlano pure tutte le tradizioni e che rappresentano in realtà dei gradi di iniziazione. Nel periodo attuale del nostro ciclo terrestre, vale a dire nel Kali Yuga, questa terra santa difesa da dei guardiani che la nascondono agli sguardi profani pur assicurandone certe relazioni esteriori, è di fatti invisibile, inaccessibile, ma soltanto per coloro che non posseggono le qualificazioni richieste per penetrarvi. Ora, la sua localizzazione in una regione determinata deve si riguardare come letteralmente effettiva o soltanto come simbolica, oppure è dessa l'una e l'altra ad un tempo? A questa questione risponderemo semplicemente che per noi gli stessi fatti geografici ed anche i fatti storici hanno come per gli altri un valore simbolico che d'altronde, evidentemente, non intacca la loro realtà propria in quanto fatti, ma che conferisce loro, oltre a questa realtà immediata, un significato superiore. Non pretendiamo aver detto tutto quello che vi sarebbe da dire sopra l'argomento cui si riferisce il presente studio, lungi da questa pretesa, e gli stessi raccostamenti che abbiamo stabilito potranno sicuramente suggerirne molti altri. Però, malgrado tutto, ne abbiamo detto certamente ben più di quanto non era stato fatto sinora, e taluni saranno forse tentati di rimproverarcelo. Ciò nonostante non pensiamo aver detto troppo, e siamo persino persuasi che non vi è in quanto abbiamo detto nulla che non possa essere detto. Sebbene siamo disposti meno di chiunque a contestare che vi sia il caso di porre la questione dell'opportunità quando si tratta di esporre pubblicamente certe cose di un carattere un po' inconsueto. Sopra questa questione di opportunità possiamo limitarci ad una breve osservazione. Si è che nelle circostanze in mezzo alle quali viviamo presentemente gli avvenimenti si svolgono con una tale rapidità che molte cose le cui ragioni non appariscono ancora immediatamente potrebbero ben trovare. È più presto che non si sarebbe tentati di crederlo delle applicazioni assai impreviste, se non affatto imprevedibili. Vogliamo astenerci da tutto quanto, da vicino o lontano, somiglierebbe a delle profezie, ma teniamo non pertanto a citare qui, per terminare, questa frase di Joseph de Maistre, ancora più vera oggi che un secolo fa. Bisogna tenerci pronti ad un avvenimento immenso nell'ordine divino verso il quale marciamo con una velocità accelerata che deve colpire tutti gli osservatori. Paurosi oracoli annunciano già che i tempi sono arrivati. Qui finisce Il re del mondo di René Guénon. È stato letto da Rosanna Lia. Grazie per l'ascolto. Grazie per l'ascolto.